Benvenuti, buongiorno a tutti, innanzitutto do il benvenuto al dottor Giorgio Centurelli, buongiorno, benvenuto e naturalmente all'altro relatore Francesco Loiero che fra poco ci raggiungerà. Oggi parleremo di rendicontazione. Vi ricordo che siamo nell'ambito della unit 2 di formazione specialistica nell'ambito della PNRR Academy per l'annualità 2023-2024. Questo percorso formativo è rivolto alle stazioni appaltanti, alle centrali di committenza per fornire proprio un insieme di conoscenze a carattere specialistico per la corretta applicazione della disciplina sui contratti pubblici. Questo percorso avrà termine il 25 di marzo, dopodiché potrete accedere al test di autovalutazione e tenere il vostro attestato. Il test di autovalutazione, quindi l'attestato, sarà a vostra disposizione non oltre il 30 aprile. Vi ricordo inoltre che il materiale didattico e la registrazione di questo webinar sarà a vostra disposizione entro la mattinata di domani. Potete porre come al solito osservazioni e quesiti nel box denominato domande e risposte. Al termine della presentazione e durante provvederanno i nostri docenti, i nostri relatori a rispondere ai vostri quesiti. Faremo una pausa di circa dieci minuti a metà della docenza, durante la quale vi chiediamo di non abbandonare l'aula per evitare problemi proprio nel riconnettervi. Dottor Centurelli, non le rubo altro tempo, le passo la parola e auguro a tutti un buon webinar. Prego. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Ciao Francesco, il docente che poi seguirà nella mia seconda parte, nella seconda parte del webinar. e direi che, vabbè, diciamo, una rapidissima presentazione che sono io, Giorgio Centurelli, mi sono, diciamo, un esperto ormai da più di vent'anni nel mondo delle politiche di coesione, in particolar modo nell'ambito di quelli che sono i cosiddetti sistemi di gestione e controllo. Oggi qualche cosina ne parleremo. e attualmente da circa due anni ricopro l'incarico di direttore generale della, diciamo, delle due direzioni dell'unità di missione del PNRF, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, quella che proprio si occupa in particolar modo di seguire tutti quanti i processi di gestione finanziaria, monitoraggio e in particolar modo di rendicontazione e controllo. Quello di cui parlerò oggi, ovviamente inquadrando un po' il tema e focalizzandoci molto sugli aspetti del PNRF, saranno appunto le procedure in generale di rendicontazione del piano e poi nello specifico interreremo un po' in quelli che sono il flusso di rimborso comunitario e il rapporto sostanzialmente dei beneficiari che nel mondo PNRF prendono il nome di soggetti autuatori, nei confronti appunto di quelli che sono gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nel sistema. Giusto un rapido inquadramento di, quando parliamo di strumenti finanziari dell'Unione Europea, noi abbiamo ben presente la, diciamo, tripartizione, anche se in realtà poi è meglio parlare di una vera e propria bipartizione, perché la terza è una categoria residuale, tra quelli che sono i cosiddetti finanziamenti a gestione diretta e quelli che vengono generalmente chiamati i finanziamenti a gestione concorrente con lo Stato membro. di rappresento questa differenziazione perché questa differenziazione in realtà ha sempre voluto rappresentare sostanzialmente una sorta di dicotomia totale da quelli che è il mondo dei finanziamenti che sono gestiti direttamente dai servizi della Commissione Europea che bypassano sostanzialmente le responsabilità del singolo Stato membro, in cui la Commissione Europea fa i bandi e direttamente, diciamo così, seleziona i beneficiari finali, in quel caso il processo di rendicontazione è avvetto tra il beneficiario del progetto di Horizon 2020, ad esempio, e la Commissione Europea, e quelli che invece vengono chiamati cosiddetti finanziamenti a gestione concorrente, è il mondo dei fondi strutturali europei, più facile rappresentarlo ad esempio con i vari programmi regionali, programmi nazionali che finanziano delle iniziative nell'ambito delle politiche di coesione, nel quale di fatto vengono assicurate dei riflessi finanziari nei confronti delle amministrazioni responsabili dei programmi, e poi sono le amministrazioni responsabili dei programmi che sono o amministrazioni regionali o ministeri, nel caso di programmi nazionali, che poi fanno l'avviso pubblico, selezionano il beneficiario finale e quindi seguono poi tutto quanto il processo di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea. Questo, tanto per dire, in queste ovviamente slide, rappresento sostanzialmente questa dicotomia, importanti più che altro, oltre che il quadro complessivo di quelle che si notano qui, sono i finanziamenti a fondi a gestione diretta, alcuni sono assolutamente noti come Life, Rise into Europe, e tra cui viene incluso, e ne parleremo poi in maniera specifica, il Recovery Residence Facility, cioè quindi anche il PNV, e serve più che altro a dare conto del processo sostanzialmente più semplificato che è, diciamo, si instaura nel processo appunto anche di rendicontazione tra quello che è il beneficiario del programma e la Commissione Europea. Quando parliamo di invece finanziamenti a gestione concorrente, noi parliamo di strumenti molto più complessi, nel quale sostanzialmente il beneficiario viene selezionato da dei soggetti appunto diversi dalla Commissione Europea, perché sono appunto i responsabili del programma, inquadrata all'interno di un processo di rendicontazione che vede anche la gestione di fonti ulteriori, aggiuntive, nazionali, quindi sostanzialmente una quota di cofinanziamento nazionale, e vede un'organizzazione complessa formata da soggetti che hanno anche una terminologia specifica stabilita all'interno del regolamento comunitario di riferimento, le autorità di gestione, le autorità di audit, gli organismi intermedi, spesso utilizzati con i loro acronimi ADG, ADA, OI, le autorità di certificazione che nel nuovo periodo di programmazione 21-27 ha preso il posto di funzione contabile, quindi normalmente può essere anche assegnata tra le funzioni dell'autorità di gestione, e per quale motivo? Perché in realtà la Commissione Europea dice tu non solo, diciamo, tu non gestisci, l'Europa, l'Unione Europea non gestisce direttamente questo ammontare finanziario, lo assegna perché ovviamente le politiche di coesione hanno necessità di una, diciamo così, più vicinanza rispetto al territorio, che quindi devono essere fondamentalmente meglio gestite secondo quelli che sono i fabbisogni specifici delle aree territoriali, quindi le assegna al territorio, trasferisce al territorio, assegna a programmi operativi regionali o nazionali, ma allo stesso tempo vuole una condivisione sia dell'impianto strategico complessivo nazionale, che prende il nome di accordo di partenariato, sia dei singoli programmi territoriali di riferimento, che prendono il nome appunto di programmi regionali o nazionali, a seconda che la programmazione sia di livello appunto nella responsabilità di un'amministrazione regionale o nella responsabilità di un'amministrazione centrale, ministero o dipartimento della presidenza del Consiglio, e dall'altra parte vogliono fondamentalmente un insieme di regole specifiche di gestione finanziaria puntuali con un'organizzazione ben declinata e puntuale, che poi deve essere ovviamente adattata all'organizzazione amministrativa del singolo Stato membro, per garantire attraverso questo vero e proprio sistema di gestione e controllo, che nell'attuazione del programma ci sia sempre il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, e quindi non ci sia un potenziale danno al bilancio comunitario. L'organizzazione, come potete vedere, è decisamente più complessa della precedente, qui il beneficiario rendi conta non direttamente alla Commissione Europea, ma rendi conta all'autorità di gestione o all'organismo intermedio, a seconda della responsabilità delegata che può essere stata effettuata per quel determinato intervento da parte, nell'ambito del programma regionale o nazionale di riferimento, la rendi contazione ovviamente si trasforma poi in dichiarazione di spesa nel momento in cui l'autorità di gestione o l'organismo intermedio effettua quelli che sono i controlli di pertinenza, e alla fine diventerà rendi contazione alla Commissione Europea, solo dopo l'avallo di quella che è l'altra attività di controllo contabile che è di pertinenza della funzione contabile, prima si chiamava autorità di certificazione. La Commissione Europea sulla base delle spese effettivamente sostenute a rendi contato o dei costi, nel caso dell'opzione di utilizzo, di opzioni di costo semplificato, quindi di costi esposti, procede quindi a erogare nel caso dei flussi comunitari, dei fondi strutturali, una quota a parte della spesa, il rimborso è il 90% della rendi contazione, della domanda di pagamento inviata alla Commissione Europea, c'è anche la quota di cofinanziamento nazionale e questo viene versato all'interno del conto di tesoreria. Poi c'è tutto quanto un processo per ottenere la quota residua che viene cristallizzata in una procedura complessa che non vi riguarda principalmente che si chiama chiusura dei conti, ma quello che è importante diciamo così evidenziare è il fatto che in questo caso il beneficiario si trova di fronte, davanti, non un rapporto diretto, quindi non una rendi contazione diretta nei confronti dei servizi della Commissione Europea, non carica le proprie spese giustifiche di spesa in una piattaforma messa a disposizione della Commissione Europea come capita spesso nell'ambito dei progetti a gestione diretta, ma si ritrova di fronte appunto a regole specifiche di rendi contazione, tra l'altro anche spesso differenziate tra territori contigui, perché dipende dal programma regionale, quindi dall'area regionale di pertinenza, che appunto sono l'intermedio rispetto poi a quello che sarà il successivo rapporto che in questo caso il responsabile di quel programma regionale o nazionale avrà con la Commissione Europea. In tutti quanti questi casi, eccetto ovviamente del PNRR, noi parliamo sempre unicamente di spesa, quindi perché questo? Perché tutti i programmi, tranne ovviamente il PNRR, nei confronti della Commissione Europea sono tutti i programmi di spesa, ossia io rendi conto alla Commissione Europea alla fine del processo una spesa, in base alla spesa vi era assegnata, trasferita un determinato rimborso, quindi che è collegato direttamente alla spesa che rendi conto. Quando entriamo nel mondo invece del PNRR, noi entriamo in un mondo decisamente diverso. Il caso, diciamo così, del programma del PNRR, il PNRR rientra all'interno di quello che è un quadro finanziario che si chiama Recovery Resilience Facility, un meccanismo di ripresa e resilienza in questo quadro finanziario specifico. Il PNRR è il piano che viene approvato dalla Commissione Europea, in primis attraverso un processo di valutazione, ma in particolar modo dal Consiglio dell'Unione Europea e quindi ha, diciamo così, in questo modo sostanzialmente vengono assegnate una quota rilevante di risorse che per l'Italia adesso, a poste di programmazione, sono oltre 194 miliardi di euro per l'attuazione di una serie di investimenti e realizzazione di una serie specifica di riforme. Il piano nazionale individua come beneficiario unico sostanzialmente del programma lo Stato membro, ecco perché quando parliamo dei comuni che gestiscono singoli progetti o delle imprese che gestiscono singoli progetti a seguito di un processo di selezione, noi parliamo di soggetti attuatori per non creare questa differenziazione nei confronti del beneficiario perché in questo caso noi, diciamo, essendo un progetto, un programma di gestione diretta, il responsabile, è come se fosse lo Stato membro, responsabile di un programma Horizon, di un progetto Horizon 2020, quindi di questo senso, tutto ciò che sta sotto la responsabilità dello Stato membro e quindi sotto sostanzialmente il governo e i ministeri non può che definirsi come il termine di soggetto attuatore. È un programma di gestione diretta, quindi rientra all'interno del programma di gestione diretta, in teoria dovrebbe essere, ma prende molti meccanismi e molti elementi e poi vi spiegherò per quale motivo del mondo della gestione concorrente, quindi somiglia per alcuni versi dal punto di vista di gestione, almeno nei rapporti coi beneficiari, ai programmi regionali o nazionali delle politiche di coesione. È un programma, ecco, in questo senso assolutamente unico nella storia dell'Unione Europea, è il primo in assoluto programma obbligatoriamente performance-based, si basa su una opzione di costo semplificato che si chiama finanziamento non collegato ai costi, finanziamento non collegato ai costi, è una, quindi il sborso sostanzialmente del trasferimento da parte della Commissione Europea non si basa sulle spese che vengono rendicontate, perché non vengono mai rendicontate dalla Commissione Europea delle spese, ma si basa unicamente sul, diciamo, corretta o soddisfacente, meglio dire, conseguimento di un gruppo di milestone e target rendicontati in semestre di rendicontazione. Tutta la ripartizione sostanzialmente, le tranche finanziarie sono state tutte inizialmente predeterminate, poi riaggiornate nella fase di riprogrammazione, quindi noi sappiamo esattamente quali sono le milestone target che dobbiamo rendicontare, in che termini dobbiamo rendicontare, in che termini dobbiamo rendicontarle, e sappiamo che ad ogni milestone target, o ad ogni gruppo di milestone target che dobbiamo rendicontare, ovviamente verranno restituite delle determinate tranche di finanziamento. Questo rapporto che c'è tra Commissione Europea, tra Stato membro e Commissione Europea, ovviamente va a influenzare anche il rapporto che c'è tra lo Stato membro, tra il governo, le amministrazioni centrali e i soggetti attuatori, e poi vi spiegherò per quale motivo, quali sono le connessioni, sia dal punto di vista di, diciamo così, performance, sia dal punto di vista di spesa, che rileva sempre, perché poi alla fine i progetti, per essere realizzati, hanno bisogno di essere finanziati, e quindi anche se nei confronti della Commissione Europea rendicontiamo solo milestone target, alla fine il processo comunque di rendicontazione della spesa è un processo comunque sempre rilevante, e non del tutto diverso rispetto a quello che è il mondo dei fondi strutturali, che magari conosciamo un pochino di più, perché sono circa vent'anni che lo applichiamo nelle nostre, almeno come tipologia di processi, di sistema di gestione e controllo, nel nostro sistema. Un altro elemento che è bene sempre raccontare, per allineare, anche per facilitare poi le successive comprensioni del prosiglio di questo webinar, è nella parte, diciamo così, di definizioni. Noi parliamo di milestone target, generalmente quando si entra dentro il mondo della cosiddetta europrogettazione, il classico, diciamo, questa è proprio una cosa tipica di anche dei sistemi di project, no? Quelli Microsoft Project, per esempio, dove ci sta il target, è il target finale, e la parte, diciamo così, gli step intermedie, rispetto al target finale, prendono il nome di milestone. Non è del tutto così, nel mondo viene a verde, ci sono, diciamo, è quasi delle definizioni a parte, se vogliamo, rispetto al milestone target, nel senso, il milestone sono dei traguardi di tipo più qualitativo, oppure di tipo procedurale, per esempio, si riferiscono a delle, a degli step di, ad esempio, legati a determinati processi, la pubblicazione di un avviso pubblico, la graduatoria degli ammessi a finanziamento, o l'adozione di una norma, l'adozione di un decreto ministeriale, e quant'altro. I target, invece, sono sempre, e solo obiettivi di tipo quantitativo, quindi, e quindi rappresentano sostanzialmente i risultati attesi degli interventi, che cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, se io ho un target, che è piantare 4 milioni e 500 mila alberi, nelle aree delle città metropolitane, e ho poi un intermedio, che è piantare, al 31 dicembre del 2022, come è stato, 1 milione e 650 mila alberi, nelle città metropolitane, quel intermedio non è una milestone, come sarebbe nel mondo, sostanzialmente, dell'euro progettazione, ma nel mondo del PNRR, viene classificato sempre target, ma target intermedio. Quindi, la differenza, in realtà, più importante, sta nel fatto che noi, mentre nel mondo della milestone, abbiamo, diciamo, mentre nel mondo, diciamo così, dell'euro progettazione, abbiamo le milestone, come step intermedio, rispetto a target, nel mondo della, del PNRR, la milestone, rappresenta un elemento di tipo qualitativo, un obiettivo qualitativo procedurale, target un obiettivo quantitativo, quindi un risultato atteso effettivo. Tutto all'elenco delle milestone e target complessivi, del Piano Italiano, le rintracciamo all'interno della legato, alla decisione del Consiglio Europeo, che ha approvato sostanzialmente il Piano, la decisione iniziale era del 13 luglio del 2021, è stata aggiornata con un'ulteriore decisione, adesso a breve arriverà una sorta di decisione direttifica, di alcuni datori materiali riscontrati, è stata aggiornata a dicembre del 2023, quindi la prossima decisione sarà quella fondamentalmente, che cristallizzerà completamente, la nuova versione del piano, ed è quella la nostra Bibbia, il nostro punto di riferimento, rispetto all'attuazione, generalmente viene utilizzato come termine la CID, CID sta per Council Implementing Decision, cioè decisione di esecuzione del Consiglio, ed ovviamente non è tanto la decisione che conta, quanto più che altro l'allegato alla decisione, che dettaglia esattamente tutti quanti le milestone e target, ti dice appunto le scadenze temporali, le quali devono essere via via soddisfatte, e poi oltretutto ti dice anche quali sono i termini per garantire il corretto soddisfacimento, a questo poi si aggiunge un altro documento, che però è un documento, una sorta di contatto bilaterale, che viene stipulato, approvato, dal Ministero delle Finanze, e dal commissario ECFIN, che sostanzialmente si chiama Operation Arrangement, che introducono insieme, oltre alla descrizione, a confermare la descrizione, per il corretto raggiungimento, quindi requisiti e sub-requisiti, il corretto raggiungimento del milestone e target, anche quelli che sono i cosiddetti meccanismi di verifica, che hanno un enorme impatto anche nei confronti dei soggetti attuatori, banalmente il meccanismo di verifica, che dice completamento del progetto, ovviamente i progetti devono essere completati, e la documentazione che deve essere allegata, deve dare la comprova del completamento del progetto, generalmente ci si rifà sempre a quelli che sono più che altro i verbali, di completamento del progetto del direttore dei lavori, piuttosto che il collaudo, però potrebbero esserci alcuni casi in cui è scritto in maniera esplicita collaudo, e quindi bisognerà completare, bisognerà rendicontare anche il collaudo entro i termini stabiliti. Questo è quello che in realtà riguarda il processo di rendicontazione verso la commissione, però ovviamente ha un impatto, come vi dicevo, molto rilevante anche nelle regole che si dovranno fare nei confronti dei singoli soggetti attuatori. Non sto a raccontarvi di come si compone il piano, questa slide serve semplicemente per darvi un overview sostanzialmente di quelle che sono le misure attualmente in essere, nel senso che prima erano sei missioni, adesso abbiamo sette missioni, perché c'è stato il cosiddetto capitolo Repower, che è un capitolo costituito sulla base di una modifica regolamentare del 2022, che ha consentito a tutti gli stati membri di integrare i propri piani nazionali attraverso delle misure, con misure specifiche rivolte ad affrancare, a superare le problematiche dovute all'aggressione della Russia, nell'Ugaraina, quindi fondamentalmente ad affrancare i stati membri in generale dal gas russo, quindi ci sono una serie di interventi in ambito energetico, alcuni sono addirittura di implementazione di quelle che sono le linee, le grid, le reti di gas, la linea atriatica in particolar modo, e poi ci sono una serie di altri importanti progetti internazionali, tra cui quelli anche di grid, di rete elettrica, collegare il cosiddetto linea tirrenica, quindi l'Italia con Sicilia e successivamente con Sardegna, oppure la Saccoi, che invece collega la Sardegna alla Corsica con l'Italia, quindi fondamentalmente un intervento sia in ambito energetico, quindi rinnovabile, ovviamente fair, e sia in ambito comunque gas, per aumentare quello che è l'approvvigionamento del gas, separandosi rispetto a quello che è la linea che ci collega con la Russia. Le prescrizioni PNRR da seguire all'interno anche del mondo, diciamo così, nel processo di rendicontazione, questo dipende molto in alcuni casi anche da quelle che sono le specifiche delle singole progettualità e dell'investimento nel quale quella progettualità viene approvato, ci saranno in generale tutti quanti i progetti devono seguire il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, è generalmente utilizzato nel suo acronimo TNSH, Don't Know Significant Arm, questo processo di prescrizione comunitaria può trovare anche cittadinanza all'interno della descrizione di singoli target, quindi non solamente un requisito di ammissibilità all'interno di un progetto, quindi non solo bisogna seguirlo e quindi darne prova di averlo seguito nel processo di rendicontazione delle spese, ma in alcuni casi potrebbe anche essere necessario dare conto e prova, perché ovviamente è richiesto spessamente, anche nel processo di rendicontazione di performance e poi vedremo qual è la differenza tra rendicontazione di performance e spesa, perché nei casi in cui all'interno del target viene riportata in maniera espressa una specifica, diciamo così, rispetto del principio di Don't Know Significant Arm, quando si rendiconterà quel target, quel progetto completato alla Commissione Europea, bisognerà anche dare comprova del rispetto del requisito di Don't Know Significant Arm. Banalmente il caso, ad esempio, dell'ecobonus, nell'ambito dell'ecobonus è scritto in maniera esplicita che il principio deve essere rispettato, il principio di Don't Know Significant Arm, DNSH, e con particolare riferimento ai costi delle caldaie, nel caso del DNSH sono ammissibili solamente, che poi è la normativa nazionale italiana, la sostituzione è possibile solo attraverso delle caldaie di tipo A, allora in quel caso ovviamente si deve dare anche comprova del fatto che quella caldaia è di tipo A, cioè quindi è sostanzialmente, ha una classe energetica che è compatibile con i perfili di MSH. e questo viene effettuato proprio nella fase di rendicontazione, quindi attestare e verificare che tutto quanto ciò che viene, diciamo, rendicontato sia pienamente coerente con quello che c'è scritto all'interno del target o della descrizione dell'investimento. Questo stesso accade nel caso del Climate Digital Tagging, spesso viene richiamato un obbligo anche in fase di rendicontazione di seguire determinati principi digitali e climatici a seconda della categoria di appartenenza, anche questi in alcuni casi sono delle prescrizioni assolute, quando appunto queste fanno parte integrante del target e in altri casi diventano degli elementi che possono essere richiesti in fase di rendicontazione, ma diciamo così non è detto. Un attimo solo che ho fatto un problema di visualizzazione. Non so che cosa devo fare, interrompi e evidenziare. Sì, sì, conviene. Ok, no. Ma se contro almeno se diminuisce la grandezza? Sì, 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 ma è una cosa stranissima. Vediamo un pochino. Allora, devo fare un'altra forma di... Ok, no, credo che sia una questione di... Di visualizzazione della presentazione? Sì, sì, un attimo solo. Prego, ci mancherebbe. Ok. Scusate. Non si preoccupi perché sono cose assolutamente normali, capitano. Le riporto i saluti dei nostri partecipanti che le hanno scritto, io ho tolto i saluti, ma insomma le hanno scritto più persone per salutarla. Ah, è ottimo, no, no, infatti tutti... Ho sempre in questo mondo, sempre cari amici, tanti, tanti colleghi, ho girato, ho girato tanto, in Italia e l'Europa, quindi sempre contento poi di ritrovare... Siamo felici. Assolutamente. Prego, prego. Grazie. Ecco, adesso sono ritornato nella normalità, scusate ancora, e quindi, diciamo, parlavo di digital e climate tagging e per quanto riguarda l'equità di genere, valorizzazione e protezione dei giovani, qui c'è una prescrizione che è quella prevista dall'articolo 47 del decreto legge 77 del 2021, sostanzialmente l'obbligo nelle fasi di affinzamento, diciamo, di appalti nei confronti di imprese di garantire, l'impresa deve garantire che almeno il 30% di nuovi assunti sia rivolto a donne e giovani, nel caso in cui la donna sia allo stesso tempo inclusa nella categoria giovane, ovviamente vale per tutte e due le categorie. Questo, diciamo, è una prescrizione nazionale e che impatta direttamente sul processo di rendicontazione perché ogni volta che poi alla fine, diciamo, nell'avviso pubblico dovrà essere garantita questo elemento e la prescrizione e la mancato assolvimento di una prescrizione del genere può avere un impatto proprio diretto sui profili di spesa e rendicontazione di quel comune nei confronti di quel comune o di quell'amministrazione responsabile dei progetti nei confronti dell'amministrazione titolare responsabile dell'investimento. Quindi sono elementi di grande rilievo. La parte della riduzione dei vari territoriali non riguarda tanto il soggetto attuatore quanto ovviamente l'amministrazione centrale che poi dovrà bandire o comunque tener conto nei propri strumenti attuativi di quelle che sono degli obblighi di prescrizione di impatto territoriale, garantendo almeno il 40% dell'investimento nell'area del Mezzogiorno intendendo con Mezzogiorno ovviamente le otto regioni del Mezzogiorno d'Italia che vanno dall'Abruzzo fino alla Campania tolta l'Umbria e comprendendo quindi anche la Sardegna e la Sicilia quindi Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Campania. Questo è un po' il quadro di quello che vi rappresentavo prima stiamo parlando in questo momento a dove siamo è importante anche rappresentarlo per dire quanto di fatto noi attualmente abbiamo in casa e qual è la performance che l'Italia ha nei confronti anche degli altri Stati membri ci sono Stati membri che hanno presentato una sola rata ci sono alcuni che non hanno presentato ancora nessuna rata che sono in discussione di una prima di una seconda ci sono alcuni che sono arrivati alla quarta rata noi abbiamo rendicontato sostanzialmente tutte quante le rate in base appunto ai semestri di rendicontazione e questo il processo di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea è costruito appunto su delle attestazioni dichiarazioni di gestione, documentazione comprovante che viene valutata, sottoposta a una primo step di valutazione quindi di sito assessment da parte della Commissione Europea che dura di norma due mesi ma può essere anche prorogata in molti casi lo è stato anche nei confronti dell'Italia di diciamo oltre sei mesi nell'ambito di quelle che sono poi il processo a seguito della valutazione positiva quindi dell'assessment positiva della Commissione c'è la necessità di avere l'ok da parte del Comitato Economico Finanziario sia la parte politica che la parte finanziaria che sono i comitati sostanzialmente dell'area del Consiglio e a seguito delle partecipazioni stati membri e solo dopo il parere positivo la Commissione Europea può versare la tranche corrispondente nelle casse dello Stato qui abbiamo ovviamente non è che si può rendicontare una parte ma si deve rendicontare sempre il conseguimento e tutte quanto il gruppo di Maestro quindi un parziale conseguimento di un gruppo di Maestro non può essere mai rendicontato e quindi salta sostanzialmente il semestre di rendicontazione se non viene realizzato entro quella determinata data e nel caso in cui dovesse accadere che la Commissione non confermi come un soddisfacente conseguimento uno o più Maestro la Commissione può anche versare meno allo Stato membro quindi creare un taglio sostanzialmente quasi tipo forfettario sulla tranche di finanziamento interversare quindi meno nei confronti di quanto quindi con danno nei confronti del bilancio dello Stato noi siamo in questo momento abbiamo ottenuto il prefinanziamento che si ottiene al momento il tredici per cento al momento in cui è stato approvato il piano con il tredici luglio è stato approvato il primo versione del piano il tredici luglio del duemila e ventuno ad agosto abbiamo potuto richiedere il prefinanziamento del tredici per cento del totale che all'epoca era di cento novantuno virgola cinque milioni di miliardi di euro adesso con l'integrazione Repower siamo arrivati a cento novanta quattro abbiamo potuto per il differenziale richiedere un ulteriore tredici per cento che sono circa mezzo miliardo di euro che ci è stato diciamo versato a gennaio del duemila e venti e poi successivamente abbiamo proceduto a fare le nostre rendicontazioni siamo adesso alla quinta rata che è in fase di chiusura di assessment nelle prossime settimane quindi ci auguriamo che nel mese di aprile possa essere approvato chiuso l'assessment e approvato da parte del chef e quindi il trasferimento probabilmente arriverà tra maggio se non ci sono particolari problemi per maggio e giugno e quindi noi in questo momento stiamo lavorando per la sesta rata che è una rata diversa rispetto a quel piano originario e che include anche alcune misure, alcuni target e maison già del capitolo Repower che è stato appena approvato per conseguire la maison come vi dicevo o i target noi non dobbiamo semplicemente dire è stato adottato, la maison richiede l'adozione del decreto ministeriale questo è un caso specifico dell'economia circolare di approvazione del piano dell'economia circolare la strategia nazionale per l'economia circolare basta un elemento ad impimentale io ho approvato il piano quindi ho approvato la strategia la rendiconto quindi tutto a posto il processo di rendicontazione è molto più rilevante come potete vedere bisogna tener conto di una serie di prescrizioni che sono inserite questo è un estratto della CID ormai sapete che cosa si intende con CID quindi la nostra Bibbia dell'annex dell'allegato alla decisione del Consiglio dell'Europa che approva, dell'Unione Europea che approva appunto il piano italiano e questa scheda è una scheda al quale è riferita al numero sequenziale M2C11 quindi vuol dire missione 2 componente 1 e la prima diciamo dell'elenco della missione 2 componente 1 è un numero sequenziale che identifica univocamente quel determinato a maison e target si tratta di un target di un maison traguardo alla traduzione di maison il target viene prodotto in obiettivo la diciamo si adempia con l'entrata in vigore del decreto ministeriale quindi la pubblicazione sostanzialmente del decreto ministeriale sulla gazzetta ufficiale e il decreto ministeriale però ultima slide ultima colonna oltre a essere diciamo richiesta all'attempimento al T2 2022 cioè vuol dire al secondo trimestre del 2022 ossia giugno 2022 deve avere tutte quante queste caratteristiche che il nuovo sistema di tracciabilità digitale incentivi fiscali e sostegno dell'attività di riciclaggio revisione del sistema di tassazione e quant'altro all'assenza di uno o più di questi elementi rende la maison non conseguita e questa è una valutazione che non viene fatta diciamo così solo desk ma viene fatta attraverso continue e costanti contatti con i rappresentanti delle singole amministrazioni per chiarire vari elementi per cercare all'interno del documento la risposta puntuale a tutti quanti quelli che vengono chiamati sub criteri di conseguimento in un processo che può anche durare parecchio sia preliminarmente che spesso è svolto anche preliminarmente rispetto alla rendicontazione come è stato per esempio il caso di di eco bonus ma anche successivamente alla rendicontazione con l'evidenza di quelli che sono gli elementi che comprovino punto per punto tutti quanti i sub requisiti quando parliamo di allora diciamo entriamo poi nel processo vero e proprio di rendicontazione e parliamo fondamentalmente di quello che capita nell'oggetto diciamo il concetto che bisogna dire subito e lo ha detto proprio in apertura questo ha un piano particolare un piano particolare perché è l'unico strumento che viene rendicontato nei confronti dell'Unione Europea attraverso delle modalità rendicontative cosiddette performance based cioè si basa sostanzialmente sui risultati su io rendiconto un gruppo di milestone target e a seguire la rendicontazione del gruppo di milestone ottengo una trance di finanziamento non rendiconto spesa la commissione non guarda le spese a meno che queste non siano un target specifico potrebbero esserci per esempio devi raggiungere almeno 500 milioni di spese nel target climatico ovvio quello diventa un target PNRR e quindi io devo rendicontare 500 milioni devo dare diciamo così elementi probanti dell'effettivo sostentamento diciamo dell'effettivo pagamento di 500 milioni di euro ma quella è una situazione comunque specifica e puntuale ma in generale comunque io rendi conto target e milestone allora che cosa c'entrano le spese quali sono il processo di controllo per quale motivo gli stati membri hanno dovuto e hanno dovuto costruire un sistema di gestione e controllo ad hoc che del tutto per alcuni versi molto molto somigliante al mondo dei fondi strutturali lo hanno fatto perché c'è una prescrizione specifica che è l'articolo 22 che non è stato inserito nella proposta originaria della Commissione Europea ma nella fase di diciamo così decisione la fase di approvazione del regolamento comunitario di riferimento l'articolo 22 recita la cui rubrica recita tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea dice che sostanzialmente gli stati membri nell'attuazione delle proprie diciamo del proprio piano possono fare riferimento ai sistemi nazionali di gestione del bilancio quindi fondamentalmente alle regole razionali con cui viene tutelata sostanzialmente l'amministrazione quindi garantito la sana gestione finanziaria però dato che sono in qualità di beneficiari devono adottare e questo lo dice MNESB adottare tutte le opportune misure per ottenere interessi finanziari dell'Unione Europea per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione conforme al diritto nazionale applicabile e che sia quindi necessario diciamo in particolar modo per quanto riguarda la prevenzione l'individuazione della rettifica di frodi corruzione conflitti di interesse dopo finanziamento in altri termini i stati membri devono garantire a prevedere un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e per questo motivo è stato suggerito e diciamo l'Italia ha seguito i suggerimenti forti raccomandazioni della Commissione Europea di dotarsi di un proprio sistema di gestione e controllo il sistema di gestione e controllo parte appunto dalla costruzione di un modello di governance complessiva noi sapevamo che il piano nazionale doveva essere appunto gestito portato avanti realizzato dalla dallo Stato membro quindi il responsabile ultimo del piano doveva essere appunto il vero e proprio governo che mantiene anche nel percorso di revisione del modello di governance che c'è stata ad aprile dello scorso anno un presidio politico puntuale attraverso la cabina di regia nella cabina di regia partecipa che è coordinata dalla presidente del consiglio o dal ministro delegato sul PNR il ministro Fitto coordina fondamentalmente governo supervisiona tutti quanti quelli che sono l'attuazione complessiva del piano dal punto di vista politico la cabina di regia è costituita dai ministri o dai sottosegretari responsabili degli investimenti del piano la struttura diciamo tecnica di supporto alla cabina di regia per quanto riguarda l'attività di segreteria tecnica ma anche di riferimento nei confronti come national contact point nei confronti della commissione europea è la struttura di missione del piano che è stata costituita presso la presidenza del consiglio dei ministri questa è una struttura di partimentale c'è un capo di partimento con 5 dirigenti con 12 uffici e questa struttura sostanzialmente governa i rapporti con la commissione europea governa tutto il processo di diciamo chiusura finalizzazione delle attività di rendicontazione governa il processo di riprogrammazione è governato seguito il processo di riprogrammazione in fase diciamo per quelli che sono gli aspetti che riguardano la gestione finanziaria monitoraggio rendicontazione e controllo e il punto di riferimento resta la ragioneria generale dello Stato che è in supporto alla struttura di missione PNR ma che allo stesso tempo dà le regole fondamentalmente dei processi di rendicontazione anche in patrimonio delle spese nei confronti appunto di tutti quanti i soggetti e amministrazioni responsabili presso la ragioneria si trova anche l'unità di audit che esigue controlli di sistema e può anche scendere fino ad effettuare i controlli presso i beneficiari per garantire anche attraverso i propri lavori che il sistema funziona e che quindi non ci sono sostanzialmente danni al bilancio comunitario e poi però la quota diciamo più rilevante l'elemento core fondamentalmente del processo attuativo è in capo alle 23 amministrazioni responsabili degli investimenti sono tutte amministrazioni centrali e dipartimenti della presidenza che hanno una suddivisione di un numero dei vari e diversi investimenti e riforme e che quindi devono di fatto attuare concretamente gli investimenti e riforme in questo per ogni amministrazione per creare anche uniformità rispetto ai processi interni della singola amministrazione spesso la responsabilità concreta sul campo viene affidata a direzioni generali di un'amministrazione ci sono direzioni amministrazioni complesse per esempio il ministro dell'ambiente ha più di 12 direzioni generali che potrebbero avere anche metodi o modalità attuative differenziate e quindi per evitare di trovarsi diciamo il processo di coordinamento della della per facilitare il processo di coordinamento dell'ispettorato generale della struttura di missione sono state comunque create delle strutture di raccordo presso ognuna di queste 23 amministrazioni che prende il nome di unità di missione l'unità di missione non fa altro che diciamo così collazionare o supervisionare vigilare rispetto all'attuazione delle singole delle singole iniziative diciamo interprese dall'amministrazione in merito all'attuazione degli investimenti del piano di competenza e esegue quello che è il processo di rendicontazione nei confronti dell'ispettorato generale che quindi successivamente nei confronti della commissione europea le strutture di missioni variano a seconda del tipo di organizzazione della complessità delle investimenti e riforme di pertinenza ci sono strutture di missione che hanno diciamo costruite con un solo dirigente altri che invece hanno la maggior parte sono direzioni generali contro uffici l'unicum è il ministero dell'ambiente che addirittura è un dipartimento con due direzioni generali una quella che appunto io coordino che di fatto svolge le stesse funzioni che svolgerebbe un'unità di missione diciamo così normale e le alcune misure vengono attuate direttamente a titolarità del ministero quindi di fatto è lo stesso ministero il soggetto attutore stazione appaltante altre la maggior parte delle misure viene invece attuata a soggetti che sono esterni al ministero e quindi di fatto devono essere selezionati dal ministero la selezione avviene attraverso forme delle più varie possibili che può essere o una ripartizione territoriale di risorse nei comuni che prendono le città metropolitane nell'ambito dei progetti per esempio di forestazione urbana hanno delle quote preassegnate nell'ambito di quella quota il singola città metropolitana presenta una propria progettualità per l'utilizzo della quota preassegnata non c'è un'attività competitiva sostanzialmente tra i comuni può esserci invece anche un'attività di tipo competitivo allora in quel caso il budget finanziario di quella di quella di quell'avviso è limitato c'è competizione c'è una valutazione delle istanze dei progetti secondo determinati criteri di valutazione vengono quindi viene stilata quindi una graduatoria e chi rientra dentro il il plafon finanziario stabilito per quell'avviso riceve quindi il contributo finanziario quindi sostanzialmente la possibilità di attuare quella specifica progettualità si tratta sempre di forme di selezione in alcuni casi appunto sono selezioni di tipo competitivo con avviso pubblico in altri casi nei confronti dei soggetti pubblici possono esserci anche delle procedere di assegnazione delle risorse dirette o delle forme di ripartizione territoriale di risorse spesso attraverso forme anche specifiche leggi di finanziamento ma non solo quando parliamo appunto del ruolo del soggetto attuatore quindi dell'amministrazione in questo caso locale troviamo diciamo tre possibili livelli di intervento uno è diciamo nel quale sostanzialmente l'amministrazione locale si trova semplicemente ad essere una sorta quasi un portatore di interesse uno stakeholder deve monitorare come se fosse una sorta vero e proprio monitoraggio civico che quell'intervento la cui responsabilità di un'altra amministrazione di un altro soggetto non impatta negativamente sulla propria cittadinanza o almeno anzi trarne i benefici positivi di quell'intervento nei rapporti appunto della cittadinanza un'altra è quella spesso utilizzata nell'ambito dei progetti di digitalizzazione le cosiddette le pubbliche amministrazioni locali Palla PAC che sono comunque nell'ambito del processo diciamo così di digitalizzazione della PIA nella quale spesso vengono vengono assegnate diciamo assegnate risorse sulla base di un determinato risultato da raggiungere l'attivazione di una di un'utenza e la realizzazione di un determinato progetto quindi di fatto è stato diciamo predeterminato il costo di ogni singola di ogni singola operazione nel momento in cui viene di fatto realizzata data conferma della realizzazione di quel processo quel costo viene diciamo trasferito con l'importo viene trasferito nelle casse del beneficiario finale del soggetto attuatore finale stiamo parlando di un processo diciamo rendicontativo che prende generalmente il nome di l'AMSAM importo forfettario e che viene realizzato per cercare di semplificare un po' il processo attuativo come se fosse una forma quasi se vogliamo premiale in quel caso l'amministrazione non è un vero e proprio titolare di un progetto non è tenuta se non a fare specifici adempimenti e quindi diventa tutto quanto molto più semplice diverso è invece il caso in cui il soggetto attuatore sia beneficiario di un vero e proprio progetto in questo caso stiamo parlando di titolarità specifiche progettuali e in questo caso ovviamente ci sono tutte quante le prescrizioni puntuali che normalmente si rinvengono all'interno dell'atto di concessione del finanziamento e viene stipulato tra il soggetto beneficiario soggetto attuatore e l'amministrazione responsabile questo che rappresento in questa in questa slide vuole essere una sorta di riepilogo complessivo di tutto quanto il flusso di rendicontazione sia di performance che di spesa che poi diciamo il collega Francesco Loiero andrà poi a puntualizzare nell'attività con un focus specifico sulla rendicontazione l'amministrazione partiamo dalla sinistra così vi spiego un po' il flusso questo è un caso di un progetto realizzato da parte di un comune esempio di un comune selezionato per un'opera di tipo infrastrutturale c'è un'amministrazione titolare di quell'investimento che deve fare un bando un avviso pubblico che dir si voglia oppure una ripartizione territoriale di risorse come se fossero i piani urbani integrati il comune diventa beneficiario quindi soggetto attuatore di quell'intervento viene stipulata dall'amministrazione centrale dopo la procedura ovviamente gli esiti della procedura selettiva e il comune una convenzione di finanziamento un atto d'obbligo che poi viene diciamo sulla base in base al quale può essere richiesta l'anticipazione che inizialmente era prevista del 10% adesso portata con il DL 19 del 2021 al 30% di norma al 30% il comune deve dare attuazione alla all'intervento al progetto e per darne attuazione deve effettuare ovviamente si appare i soggetti terzi che deve selezionare se è un'impresa affidataria dei lavori deve eseguire le normative la norma del codice degli appalti deve eseguire le prescrizioni articolo 47 in uno specifico per quanto riguarda il PNV cioè quello che vi dicevo l'obbligo dell'impresa di dover assumere almeno 80% donne e giovani e poi da attuazione concreta al progetto ovviamente nell'attuazione del progetto si realizzano si sostengono determinate spese questa e il progetto ovviamente deve comportare o sarà spesso viene collegato a determinati target nella rendicontazione dei target e delle spese non è una rendicontazione diciamo così sincrona anzi è asincrona e quindi spesso può avvenire in tempistiche e con ovviamente modalità decisamente differenti dalla parte per farvi un esempio è ovvio che l'impresa in primo step al momento della partenza chieda un'anticipazione e quindi il comune versa l'anticipazione all'impresa e quel versamento il pagamento della fattura anticipazione di fatto è già una spesa sostenuta quindi il comune potrebbe già inserire la spesa sostenuta nel processo di rendicontazione per ottenere nuova cassa disponibilità e poter andare avanti ma ancora è lungi da venire quelle che sono il raggiungimento dei target del progetto si potrebbe invece aspettare la realizzazione del target degli step intermedi dei target dei SAL e in quel caso in realtà con la prova del raggiungimento della riqualificazione di quel numero di metri quadri necessari per poter diciamo rendicontare la visura io diciamo inserisco il SAL nel processo di rendicontazione pago il SAL quindi io mi ritrovo a rendicontare le spese e dall'altra parte anche il target da cui attraverso il SAL ho evidenza di quel profilo di rendicontazione puntuale la rendicontazione segue il processo dell'inserimento ovviamente delle spese e della rendicontazione dei massima target avviene sempre attraverso il sistema Regis nell'ambito di quelle che sono le domande di rimborso vengono parliamo del flusso di rimborso delle spese vengono caricate in automatico spesso attraverso c'è un'interrogarabilità con il sistema della fatturazione elettronica per il tramite della PCC cioè la piattaforma di commerciali viene caricato direttamente quella fattura collegata al CUP di progetto al codice unico di progetto nel momento in cui è stata caricata devono essere garantite tutte quante quelle che sono il completamento dell'informazione rispetto a quella fattura pagata e quindi può essere inserita nel processo di rendicontazione ci sono una serie di attestazioni specifiche che devono essere effettuate che riguardano le prescrizioni di MSH tagging i milestone il conflitto di interesse il doppio finanziamento e a seguito di quelle che sono la diciamo così la la verifica a livello diciamo l'espeditamento di tutte quante le verifiche di controllo a livello del beneficiato del soggetto attuatore vanno a livello di amministrazione centrale l'amministrazione centrale di norma utilizza un criterio di campionamento delle spese per andare a controllarle e una volta intercettata la spesa controlla tutto il flusso procedurale anche che diciamo ammonte rispetto a quella specifica spesa ad esito dei controlli positivi l'amministrazione centrale può quindi rendicontare e inviare la domanda di pagamento all'ispettorato generale che segue ulteriori step di controllo anche questi a campione e mette a disposizione su richiesta la somma corrispondente alla rendicontazione nel conto di contabilità speciale dell'amministrazione centrale titolare che può essere quindi poi successivamente trasferito direttamente nel punto di risolvere del comune questo per rimpinguare la cassa del comune e consentire al comune di poter continuare a realizzare l'investimento la parte invece di target maestro di target principalmente viene invece segue sempre questo processo di rendicontazione con una verifica questa volta al cento per cento da parte dell'amministrazione centrale titolare più che altro tesa a verificare che ci sia il rispetto di tutti quanti i subcriteri richiesti dal PNRV l'amministrazione centrale rendi conta all'ispettorato generale del PNRV attraverso sempre Regis nel momento in cui serve rendicontarlo nei tempi di rendicontazione e quindi nel semestre di riferimento di quel target l'ispettorato generale recupera tutte quante quelle che sono i milestone target di quel semestre di rendicontazione fa di fatto due richieste di pagamento una per la quota presti di una per la quota subvenzione con dichiarazione di gestione e tutta la documentazione di accompagnamento che appunto sia a comprova a supporto dell'effettivo conseguimento unisce anche la sintesi degli audit che viene diciamo redatta sempre semestralmente da parte dell'unità di audit in base ai controlli effettuati sulle varie diverse amministrazioni centrali e sui beneficiari ed esegue quella che è la invia la richiesta di pagamento entro la scadenza del semestre di rendicontazione alla commissione europea la commissione europea come vi dicevo non esegue semplicemente un'attività diciamo così ad impimentare ma esegue non dire proprio attività di assessment di valutazione puntuale quindi va a verificare che i target mai siano stati puntualmente rendicontati e correttamente soddisfatti dopodiché diciamo l'assessment positivo viene posto a valutazione da parte del consiglio del CEF del consiglio economico finanziario ad esito dell'approvazione da parte del consiglio viene quindi data la possibilità alla commissione europea di poter trasferire la transce di finanziamento corrispondente nel bilancio dello Stato per chiudere fondamentalmente il cerchio di rendicontazione delle milestone e target come potete vedere di fatto non è la parte di spese molto similare a quello del mondo dei fondi strutturali l'unica cosa che non sale poi la spesa a livello della commissione europea perché a livello della commissione europea quello che conta solamente sono i target rendicontati ecco perché si dice che il programma è un programma performance based nei confronti della commissione europea non escludendo che di fatto comunque il processo di rendicontazione a livello di Stato membro resta del tutto in essere ed è chiaramente vigente un giusto per chiudere per darvi un po' quelli che sono gli elementi che poi servono sempre nel processo di rendicontazione abbiamo parlato di CUP è essenziale il CUP è il codice unico di progetto ogni progetto deve necessariamente averlo ogni progetto non può essere rendicontato in assenza del CUP il CUP deve essere assegnato addirittura a livello di ammissione a finanziamento quindi gli atti che assegnano le risorse senza CUP sono addirittura nulli quindi è combinata la funzione amministrativa più alta da parte dello Stato membro ed è un elemento anche di tracciabilità importante perché il CUP deve essere riportato in ogni fattura in ogni giustificativo ogni mandato di pagamento quindi il CUP serve a riconciliare fondamentalmente tutte le spese progettuali secondo i principi di tracciabilità altro elemento di fondamentale importanza sempre anche nel processo di rendicontazione è il della comunicazione pubblicità non ci sono delle prescrizioni enormi nel mondo del PNR ma una c'è quella di utilizzare il logo dell'Unione Europea con la scritta finanziata dall'Unione Europea Next Generation EU questo è un requisito di ammissibilità addirittura perché è riportato addirittura nel regolamento comunitario quindi non scordatevi mai di utilizzarlo anche di utilizzarlo nei vostri documenti di lavoro interno cioè io banalmente lo inserisco dentro non serve a niente ok però però il fatto di vederlo o di utilizzarlo abitua anche al fatto di diciamo intercettare i casi in cui questo non ci sta banalmente io lo utilizzo dentro le mie note anche interne quelle diciamo di comunicazione interna utilizzo sempre questa 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 questo logo quindi la raccomandazione lo richiede la Commissione Europea nei controlli che abbiamo subito lo ha richiesto più volte addirittura lo richiede nelle piattaforme lo richiede nei siti web lo richiede nei documentazioni di accompagnamento quindi ricordate sempre come consiglio di utilizzare sempre il sembrerebbe una banalità ma le conseguenze del mancato utilizzo nei casi in particolar modo di strutture che hanno un'evidenza all'esterno nei confronti della cittadinanza sono conseguenze rilevanti perché sono valutate in termini proprio di ammissibilità della spesa altro infine elemento fondamentale è tutto quanto il set di dati che deve essere raccolto raccogliere i dati secondo categoria standardizzate dei dati comportano solo quelli che sono i dati normali cosiddetti destinatari finali dei fondi o nome dei appaltatori ma anche quelli inerenti il cosiddetto titolare effettivo cioè il destinatario dei fondi il titolare effettivo ai sensi della direttiva quella che è citata in questa parte in merito quindi 215 849 2015 849 che è la direttiva la quarta direttiva anti riciclaggio il titolare effettivo è sostanzialmente indicare e attestare sostanzialmente quelli che sono i soggetti che hanno la proprietà e il controllo azionario di almeno il 25% delle quote e quindi in questo caso si tratta di andare ad individuare sostanzialmente tutte le persone fisiche che in un certo senso hanno modalità o possibilità di controllare le scelte di quella determinata impresa che poi riceve i fondi o risulta destinataria in quanto di una aggiudicataria di un appalto ultime diciamo non parlerei troppo rispetto a quello che è lo scambio dei dati perché tanto l'abbiamo detto l'importante è dire che tutto quanto avviene attraverso il sistema Regis Regis è il sistema della piattaforma messa a disposizione della regione generale dello Stato per l'implementazione dell'attività di monitoraggio rendicontazione in parte controllo ha una serie di moduli specifici che riguardano appunto sia di competenza diciamo dei soggetti attuatori sia di competenza dell'amministrazione centrale sia di competenza della regione generale con una serie di attività puntuali che seguono sia il processo di monitoraggio di rendicontazione che di controllo nell'ambito di quelle che sono un po' diciamo su questo che è un processo che poi per fine verrà anche riscritto puntualmente dal collega io quello che vi voglio raccontare semplicemente in queste due slide finali intanto per diciamo mettere quell'elemento di tipo comparativo tra il mondo dei fondi comunitari e il mondo delle il mondo diciamo così dei fondi comunitari classici in particolar modo fondi strutturali e il mondo del PNV è giusto per farvi capire differenze ma anche sinergie e similarità queste due slide mostrano sostanzialmente i livelli di differenziazione quando parliamo di ovviamente management target parliamo di di un mondo che è tipicamente del mondo del PNRR quando parliamo di tagging climatico parliamo di un mondo tipicamente del mondo del PNRR e quando parliamo invece del rispetto del principio di non arregare danno significativo quello che facciamo con il PNRR lo faremo e lo stiamo facendo anche con il mondo dei fondi strutturali almeno nella programmazione 21-27 che segue le stesse identiche regole quindi tutto quanto quello che voi state facendo per rispettare questo principio perché titolari di progetti PNRR voi lo ritroverete comunque anche nel mondo dei fondi strutturali perché sono le medesime regole medesime regole anche riguardano l'assenza di doppio finanziamento lotta alle frodi corruzione conflitto di interesse perché le stesse identiche regole sono anche riportate all'interno del mondo dei fondi strutturali anzi sono anche molto più diciamo così pressanti da quel punto di vista è diverso ovviamente il mondo diciamo regola del 40% già vi avevo detto che questa è una tipicità diciamo nel mondo PNRR perché il mondo di politica di coesione l'assegnazione il divario territoriale sta già nell'assegnazione delle risorse che è preminente nei confronti delle aree meno sviluppate quindi maggiore risorse alle regioni del mezzogiorno piuttosto che al centro-nord mentre invece non esiste nel mondo PNRR nel mondo nel mondo dei fondi strutturali quella prescrizione PNRR che riguarda appunto la parità di genere e la valorizzazione dei giovani che è invece una diciamo prescrizione unicamente e specificamente inerente il mondo del del piano io diciamo oltre oltre non andrei il collega poi diciamo seguirà il percorso di rendicontazione e va bene dottor Setturelli allora se vuole può togliere la condivisione ci sono delle domande ma abbiamo detto insomma possiamo lasciarle tranquillamente al al termine delle due presentazioni chiedo al dottor Loiero di condividere il proprio le proprio la propria presentazione altrimenti facciamo una cosa eh dottor Loiero facciamo la pausa ora funzionale anche al alla divisione del delle due presentazioni quindi faremo una pausa di dieci minuti ci rivediamo qui fra fra pochissimo vi chiedo di non di non abbandonare l'aula per evitare problemi nel riconnettervi a voi eh dico che potete tranquillamente chiudere microfono e webcam ci vediamo fra dieci minuti per la seconda parte grazie mille saluto a tutti grazie ciao ciao Giorgio grazie 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 Dottor Loiero può chiudere la webcam tranquillamente ci vediamo fra qualche minuto grazie perfetto mi sentite comunque grazie 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 ecco ci siamo eh prendo un minuto la parola perché eh alcuni partecipanti stanno scrivendo in merito al percorso un piccolo riepilogo il percorso è iniziato il 22 di febbraio e terminerà il 25 di marzo il programma lo potrete trovare in piattaforma è visibile a tutti quindi potrete vedere tutte le lezioni che si avvicennano quelle che si sono avvicindate e seguire soprattutto i corsi se non riuscite in diretta eh in modalità sincrona a partire dalle successive 24 ore quindi troverete la registrazione ehm Annalisa Schembari ci chiede se il eh contatto per seguire la lezione come prassi noi non inviamo nessun link nessun contatto ma come al solito voi dovrete accedere in piattaforma ed entrare nel nel webinar di vostro interesse o altrimenti seguirlo in modalità asincrona il giorno successivo e al termine di tutto l'intero ciclo formativo quindi dopo il 25 di marzo sarà a disposizione eh il vostro eh il vostro test di autovalutazione per ottenere l'attestato di partecipazione dottor dottor loiero può può riaprire webcam e microfono procediamo con la condivisione buongiorno intanto vi chiedo se mi riuscite a sentire sì sì la sentiamo bene perfetto allora vado subito alla condivisione scusi ehm chiedo ehm ci scrivono anche che non si vedono alcune lezioni forse eh o comunque ci sono problemi di visualizzazione siamo moltissimi in piattaforma e ehm quindi non non abbiamo di queste indicazioni da altri partecipanti comunque per ogni esigenza potete scrivere eh ad aggiornamento rupp chiocciola ifel.it e quindi poi provvederemo con con un riscontro dettagliato da parte vostra di quali lezioni di quali risorse all'interno della piattaforma non si vedono e poi vi daremo un riscontro possono esserci debug possono essere qualsiasi cosa quindi se però ecco due righe tramite mail sarebbe meglio eh dottor Loiero lo metta presentazione tutto schermo grazie mille prego ok perfetto ehm intanto buongiorno a tutti ehm io sono Francesco Loiero ehm ho assistito alla presentazione del dottor Centurelli devo dire anche se lavoro con lui però è sempre sempre un piacere sentire queste lezioni ringrazio ovviamente per la possibilità di di partecipare e quindi in questa ora ora diciamo è un quarto circa che che manca cercherò di completare un po' a partire dal quadro che ha evidenziato il dottor Centurelli la parte proprio sulla rendicontazione cercando di entrare ancora di più nel dettaglio diciamo operativo e cercando di dare indicazioni che possono essere utili anche proprio nella nell'attuazione dei progetti mi chiedo soltanto una cortesia io non riesco in questo momento a vedere la la chat quindi non si preoccupi in termini della sua presentazione toglieremo la condivisione mh gli ultimi gli ultimi venti minuti diciamo risponderemo alle domande non si preoccupi perfetto grazie ehm io sono brevissima presentazione ehm mi sono sempre occupato di fondi strutturali e poi da diciamo dal 2021 sono entrato nel mondo del PNRR andando a a supportare il Ministero dell'Economia e delle Finanze come ehm diciamo esperto e nell'ufficio di coordinamento dell'attuazione quindi ho seguito un po' dall'inizio tutto il processo di ehm invio del piano e definizione poi approvazione della diciamo della valutazione del piano e poi definizione delle prime regole operative e delle e delle la costituzione delle varie strutture eh dopodiché sono entrato poi nel Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nel Dipartimento PNRR attualmente ricopro l'incarico di dirigente dell'ufficio di gestione finanziaria ma seguo trasversalmente l'attuazione di tutte le misure PNRR del del Ministero senza farla troppo lunga parto subito con eh diciamo la prima eh il primo segmento della di questa diciamo ora di di corso riprendendo ho ripreso un paio di slide del del dottor Centurelli perché interessava ripartire dal sistema Regis lui ovviamente ha già dato mi scusi dottor Logiero ma si vedono sdoppiate le slide si vede la slide grande e l'anteprima a destra ah perché probabilmente ho condiviso allora se mi date solo un secondo provo a modificare le impostazioni della condivisione perché probabilmente ho condiviso lo schermo in cui diciamo se ha un doppio schermo dipende da quello si esatto è per questo però adesso provo a allora dovrei adesso condividendo lo schermo 2 adesso rimettendo in modalità presentazione dovrebbe vedersi lo schermo intero mi chiedo solo una conferma perfetto grazie infinite ok grazie a lei dicevo ho ripreso un paio di slide che erano nella presentazione del dottor Centurelli semplicemente per ricollegarmi al sistema Regis cui lui ha già fatto ovviamente un primo inquadramento perché questo mi serve per poi entrare un po' più nel dettaglio per la fase proprio di diciamo monitoraggio ma più che altro rendi contazione anche se vedremo che i due ambiti sono estremamente connessi anche proprio dal punto di vista pratico il sistema Regis ovviamente non mi dilungo ulteriormente rispetto a quanto già detto dal dottor Centurelli chiaramente un sistema informativo centralizzato che ha il compito di contenere al suo interno tutte le informazioni dei progetti PNRR e quindi l'idea è quella di avere proprio una banca dati sostanzialmente un unico centro che possa garantire anche la fornitura di informazioni e aggiornamenti su tutti i progetti del piano e consentire fondamentalmente le attività di gestione controllo monitoraggio e rendi contazione dei progetti chiaramente sono presenti una serie di interoperabilità con diversi sistemi nazionali e comunitari e quindi l'obiettivo è quello anche di fornire la massima trasparenza sui progressi del piano fermo restando che si tratta di un sistema chiaramente per tra virgolette gli addetti ai lavori nel senso che non è aperto al pubblico direttamente le utenze come sicuramente saprete sono come dire limitate ai soggetti coinvolti proprio nell'attuazione dei diversi progetti del PNRR e infatti questo lo vediamo anche dai moduli del sistema Regis su cui vado abbastanza rapidamente solo per farvi vedere che ci sono alcuni moduli ovviamente che sono destinati alle strutture di coordinamento pensiamo la programmazione del piano chiaramente il ministero dell'economia l'ex servizio centrale adesso si chiama ispettorato generale che gestisce come dire l'architettura del piano e i processi di programmazione e riprogrammazione quindi inserisce al sistema i dati relativi alla programmazione delle risorse e agli obiettivi quindi milestone e target del piano poi c'è un modulo che è dedicato alle amministrazioni centrali il secondo modulo quello che vedete nominato come attivazione e configurazione delle procedure chiaramente ha il compito di supportare in questo caso le amministrazioni centrali nelle attività di pertinenza quindi gestione della misura e quindi anche come dire programmazione degli step procedurali a partire dalla cosiddetta RAT la procedura di attivazione all'interno della quale poi si innesta la convenzione con i soggetti attuatori e quindi anche c'è un collegamento tra misura in generale provvedimento attuativo quindi avviso pubblico decreto ministeriale e poi le convenzioni con i soggetti attuatori moduli di interesse del soggetto attuatore sono invece questi che vedete come terzo e quarto quindi il modulo di configurazione e gestione delle operazioni e il modulo di rendicontazione che hanno proprio il compito il primo quindi configurazione e gestione delle operazioni quello proprio di consentire il monitoraggio del progetto quindi la possibilità di inserire i dati relativi ai progetti ammessi a finanziamento da punto di vista procedurale finanziario e fisico quindi le tre dimensioni classiche di monitoraggio con ovviamente le peculiarità del PNRR pensiamo per esempio al contributo alla milestone e target per quanto di competenza del progetto il modulo di rendicontazione come è facilmente intuibile dalla parola stessa consente proprio l'attività di rendicontazione quindi la presentazione dei cosiddetti rendiconti di progetto è importante però dire e adesso lo vediamo anche con le slide successive che i due moduli sono estremamente connessi in che senso nel senso che se io voglio fare la rendicontazione come abbiamo detto nell'ultimo modulo il modulo di rendicontazione devo però avere prima inserito una serie di spese all'interno del modulo di configurazione e gestione delle operazioni quindi quando vado a fare poi lo vedremo meglio fra poco la rendicontazione vado sostanzialmente a richiamare a come dire scegliere di far partecipare nel mio rendiconto una serie di spese che ho già inserito precedentemente nel modulo tra virgolette di monitoraggio nell'ambito delle informazioni di tra virgolette monitoraggio finanziario comunque adesso lo vedremo meglio fra pochissimo per concludere giusto per la panoramica molto rapida sui moduli del sistema Regis vado più rapidamente perché questi altri moduli non sono di diretto interesse diciamo così dei soggetti attuatori ma servono per garantire altre funzioni connesse ad altri soggetti che operano all'interno del PNRR penso per esempio al modulo contabile che è il modulo che utilizzo io con la mia squadra per gestire le operazioni di gestione finanziaria quindi richiedere le risorse al Ministero dell'Economia e poi fare le operazioni di trasferimento e pagamento nei confronti dei soggetti attuatori o realizzatori però è un modulo che chiaramente non è visibile da parte del soggetto attuatore il modulo di audit serve per l'organismo di audit per svolgere le proprie funzioni è un organismo con funzioni molto simili che ricordano molto quelle di un'autorità di audit nel mondo dei fondi strutturali il modulo di monitoraggio serve per garantire una serie di report e la visualizzazione dei dati con diversi indicatori che possono essere prescelti diversi KPI entriamo però più nel dettaglio per capire come funziona un po' su Regis proprio il processo di censimento della misura e poi attivazione del soggetto attuatore al sistema chiaramente questo è banale ricordarlo però diciamo lo faccio lo stesso quello che accade sul sistema Regis quindi sul sistema informatico è chiaramente un riflesso appunto informatico di quello che accade a livello amministrativo in che senso ovvio che dal punto di vista amministrativo parte la misura quindi c'è a livello ministeriale sappiamo abbiamo visto insomma anche dalla presentazione del dottor Centonelli la governance del piano e quindi il ruolo attribuito alle amministrazioni centrali titolari di misure chiaramente loro gestiscono le misure quindi emanano i provvedimenti attuativi pensiamo a un decreto del ministro pensiamo a un abiso pubblico quindi quello che accade poi a livello amministrativo viene tradotto sul sistema Regis con la cosiddetta procedura di attivazione la Prat quindi semplicemente a sistema si censisce questo primo momento amministrativo con cui di fatto parte l'investimento a questa Prat questa procedura di attivazione devono poi essere collegate le cosiddette convenzioni perché ovviamente dopo questo diciamo provvedimento attuativo pensiamo al caso dell'abiso pubblico c'è tutto poi l'iter amministrativo valutazione delle proposte ammissione a finanziamento che si conclude con la stipula della cosiddetta convenzione in alcuni casi è un atto d'obbligo ma cambia poco il punto è che deve esserci appunto una convenzione un atto d'obbligo che va tra virgolette a perfezionare l'ammissione a finanziamento del progetto e che di fatto conferma il ruolo di soggetto attuatore per quel soggetto che appunto era stato ammesso a finanziamento ed è molto importante perché a seguito della registrazione poi degli organi di controllo questo moment questa registrazione della convenzione in realtà del decreto approvativo generalmente o nel caso di atto d'obbligo di un decreto di concessione ma il punto è che una volta registrati dalla corte dei conti questi questi atti si abilitano diciamo così si sbloccano tra virgolette due momenti uno la possibilità di accedere al sistema Regis e dall'altro anche la possibilità di chiedere poi l'anticipazione queste almeno sono le prassi che come come Mase diciamo adottiamo su tutti i nostri investimenti ovviamente suggerisco sempre nel caso di progetti a valere su altre misure con altri ministeri suggerisco sempre di andare a vedere le specifiche linee guida o istruzioni emanate dai dai ministeri però generalmente questo è un po' il percorso amministrativo svolti questi step il soggetto attuatore può entrare sul sistema Regis quindi normalmente chiede l'abilitazione c'è sempre un indirizzo dedicato da parte del diciamo del ministero di riferimento e a un certo punto poi viene approvata questa richiesta di accesso al sistema con le utenze che si intende profilare e si entra sul sistema Regis e si ha quindi la possibilità di inserire una serie di dati connessi al progetto e di effettuare poi la cosiddetta prevalidazione che è sostanzialmente un controllo automatico del sistema Regis che consente di evitare errori intercettare errori prima di inviare i dati all'amministrazione centrale concentriamoci però sulla parte di rendicontazione perché era utile questa prima panoramica per capire a che livello devono essere inseriti i dati ovviamente questa slide fa riferimento alle informazioni di monitoraggio come potete facilmente comprendere che devono essere inserite sul sistema Regis siamo all'interno del modulo che abbiamo visto prima di configurazione e gestione delle operazioni nella parte di anagrafica del progetto queste che vedete sono le tre dimensioni di monitoraggio che ovviamente come dire rimangono le stesse anche come dire la filosofia del monitoraggio è sempre la stessa sono queste tre dimensioni che devono essere chiaramente monitorate l'avanzamento finanziario fisico e procedurale del progetto voglio però concentrarmi sulla parte di avanzamento finanziario che vedete cerchiata in verde infatti non a caso perché l'inserimento di questi dati e informazioni che vedete è strumentale come dicevo poco anzi alla effettuazione della rendicontazione che cosa vuol dire io come dicevo anche prima devo inserire in questa sezione in questa fase quindi nei dati di avanzamento finanziario le informazioni che vedete nel punto elenco quindi impegni giuridicamente vincolanti pagamenti giustificativi di spesa e la documentazione amministrativa contabile anche qui il suggerimento è quello di andare a vedere le linee guida specifiche del ministero su cui il progetto PNRR è stato messo a finanziamento perché fermo restando che il sistema Regis è uguale per tutti e gli stessi campi però potrebbe essere chiesto un livello di caricamento documentale diverso da ministero in ministero in ogni caso considerando anche il circuito finanziario del PNRR che si basa sulle spese effettivamente sostenute questi elementi sembrano essere elementi imprescindibili quindi devo andare ad inserire l'impegno l'impegno chiaramente è quel contratto quel provvedimento che mi come dire va a destinare quella somma o accantonare quella somma devo andare a inserire il pagamento con il relativo giustificativo di spesa perché ovviamente non basta la fattura ma deve essere una fattura come dire qui è tanzata tra virgolette deve essere presente il documento giustificativo di spesa e poi la documentazione amministrativo contabile pensiamo ad un provvedimento di liquidazione pensiamo ad un atto di approvazione del sal e quant'altro ovviamente poi ci sono le altre due dimensioni avanzamento fisico e procedurale che sono altrettanto importanti ma diciamo meno connesse alla fase di rendicontazione quindi vado un po' più rapido perché ovviamente avanzamento fisico vuol dire avanzamento quindi aggiornamento del dato relativo agli indicatori pensiamo per esempio di contributo al target della misura ovviamente il target ne ha parlato prima il dottor Centurelli è un indicatore di tipo quantitativo possono esserci diverse tipologie di unità di misura si può andare da una percentuale a un valore assoluto a un numero di metri quadri e quindi il progetto verosimilmente contribuirà per quanto di competenza quindi in quota parte al conseguimento del target e quindi è assolutamente importante tracciarne l'avanzamento indicatori comuni UE anche qui bisogna tracciare il valore realizzato e per quanto riguarda l'avanzamento procedurale ci sono assolutamente degli elementi molto importanti pensiamo al cronoprogramma viene in mente il recente DL 19 2024 in particolare l'articolo 2 che come sicuramente avrete visto dà delle indicazioni puntuali sia nei confronti dei soggetti attuatori sia nei confronti delle amministrazioni centrali e poi ovviamente le informazioni connesse alle procedure di affidamento con i CIG c'è una interoperabilità con sistema CIMOG di ANAC eventualmente però nel caso di dati mancanti diciamo bisognerà completare le informazioni manualmente anche qui sarò ripetitivo ma ribadisco il suggerimento di andare sempre a vedere le linee guida specifiche del ministero noi come ministero dell'ambiente abbiamo emanato delle linee guida con indicazioni specifiche sugli aspetti di monitoraggio rendicontazione controllo gestione finanziaria per tutti i soggetti attuatori però ecco anche qui c'è una certa flessibilità in ordine al livello di informazioni minime che sono richieste a sistema tra le diverse amministrazioni centrali vado avanti perché a questo punto anzi rifaccio un passo indietro quindi diciamo che io voglio fare un rendiconto di progetto ripercorriamo un attimo il percorso cosa devo fare abbiamo detto inserisco le spese nella sezione di configurazione e gestione delle operazioni quindi nella parte di avanzamento finanziario vado a inserire queste spese supponendo che io ovviamente abbia già posto in essere gli step precedenti quindi devo avere ovviamente un progetto messo a finanziamento devo avere stipulato una convenzione atto d'obbligo con le relative registrazioni degli organi di controllo devo aver chiesto l'accesso a Regis e devo avere ovviamente sostenuto una serie di spese e quindi ho la possibilità di inserirle in questa sezione supponiamo che io abbia posto in essere tutti questi step a questo punto cosa faccio devo andare su un'altra sezione un altro modulo del sistema Regis che è quello che abbiamo visto prima di rendicontazione e devo creare un nuovo rendiconto di progetto ovviamente io semplifico parlando di spese effettivamente sostenute nel caso chiaramente di cosiddetti costi reali ma nel PNRR sono abilitate diciamo è consentito l'utilizzo anche delle cosiddette opzioni di costo semplificato sono per chi non le conoscesse delle modalità semplificate appunto di rendicontazione che si basano su una serie di formule modalità semplificate e in questo caso si fa riferimento alle modalità previste dal regolamento disposizioni comuni per la programmazione 2127 il regolamento 1060 2021 dall'articolo 52 in poi sono presenti queste modalità semplificate ovviamente il suggerimento è andare sempre a vedere l'avviso pubblico per vedere se nelle spese ammissibili nell'articolo sulle spese ammissibili sono previste alcune di queste opzioni di costo semplificato fermo restando che in linea generale sono utilizzabili sul PNRR quindi questo semplicemente per dire che il sistema Regis dà la possibilità sia di inserire le spese sostenute sia di inserire i costi maturati nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di opzioni di costo semplificato quindi io devo avere inserito queste spese abbiamo detto nell'altro modulo a questo punto decido di andare ad effettuare un rendiconto di progetto quindi voglio rendicontare queste spese che cosa devo fare vado sul modulo di rendicontazione entro nella sezione di rendicontazione della spesa versus ARDI ARDI è questo acronimo per definire l'amministrazione responsabile di intervento e andando a ricercare il proprio progetto ovvio che deve esserci un progetto di pertinenza c'è la possibilità di creare un nuovo rendiconto che sarà caratterizzato da uno specifico identificativo che cosa succede quindi c'è una prima fase in cui si devono associare le spese sostenute o ai costi maturati al nuovo rendiconto quindi semplicemente compariranno le spese che sono state correttamente inserite nella sezione di appunto monitoraggio e ci sarà la possibilità di scegliere di far partecipare tutte o alcune di queste spese o di costi maturati al nuovo rendiconto che si sta creando terminata questa prima fase c'è una una seconda fase in cui il sistema informatico sostanzialmente fa comparire una serie di punti di controllo perché qual è il concetto il concetto è che io rendi conto una serie di spese ma devo dimostrare di aver fatto una serie di controlli su quelle spese devo fondamentalmente rispettare devo fondamentalmente dimostrare che rispetto a quelle spese che io presento in rendicontazione ho svolto una serie di verifiche andiamo a vedere quali sono queste verifiche che devo avere svolto questi che vedete sono i punti di controllo che compaiono sul sistema Regis vediamo gli aspetti di controllo richiesti a partire dalla cosiddetta regolarità amministrativo contabile quindi i controlli ordinari previsti dalla normativa appunto nazionale l'individuazione del titolare effettivo l'assenza di conflitto di interessi e di doppio finanziamento il rispetto delle condizionalità PNRR relative alle maestone target della misura questo ovviamente sarà indicato all'interno della della CID ne ha parlato prima anche il dottor Centurelli l'ha legato alla decisione del consiglio che approva approvato il piano quelle poi di aggiornamento a seguito della riprogrammazione gli operational arrangement che fondamentalmente dicono quali sono le modalità la documentazione a comprova della rendicontazione quindi indipendenza del target o della maestone ci saranno delle condizionalità specifiche e poi possono esserci ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura pensiamo al tagging agli indicatori comuni c'è chiaramente l'aspetto assolutamente non secondario del DNSH il cosiddetto principio do no significant harm quindi di non arrecare un danno significativo all'ambiente e poi il rispetto dei principi trasversali quindi pensiamo alla parità di genere pensiamo alle politiche per i giovani alla quota sud chiaramente la domanda che ci si può fare in questo momento è dire ok ho capito quali sono gli ambiti ma come faccio poi a dimostrare effettivamente di aver fatto questi controlli associati a quelle spese in questo caso ogni amministrazione centrale premessa come funziona il sistema informatico quando compare immaginate torno indietro questa schermata sostanzialmente compaiono questi punti di controllo per chi di voi non fosse ancora entrato compaiono di fatto questi punti di controllo in corrispondenza dei quali c'è un flag c'è proprio la possibilità di apporre una spunta per dire ho fatto il controllo su quell'aspetto chiaramente non basta il flag nel senso che bisogna poi presentare la documentazione a comprova dello svolgimento delle verifiche svolte quindi la domanda è che cosa serve che documentazione io devo caricare per poter comprovare questa diciamo queste verifiche svolte intanto secondo la circolare MEF RGS la numero 30 del 2022 devono essere predisposte a cura delle amministrazioni centrali titolari degli interventi dei format o attestazioni specifiche per mettere a disposizione dei soggetti attuatori per garantirgli diciamo gli strumenti per poter attestare questi controlli quindi il punto è che ogni ministero fermi restando gli ambiti di controllo che sono gli stessi per tutti sono quelli che abbiamo visto prima ha predisposto per ogni ministero delle sue attestazioni o format per comprovare il diciamo lo svolgimento di questi controlli quindi per esempio noi come ministero dell'ambiente e sicurezza energetica tra gli allegati alle linee guida del soggetto attuatore per chi possa essere interessato sono disponibili sul nostro sito c'è proprio una sezione dedicata al sistema di gestione e controllo abbiamo predisposto una serie di format e attestazioni che appunto possono essere scaricati e una volta compilati firmati e caricati a sistema fondamentalmente costituiscono un po' chiamiamo la lista della spesa ecco il soggetto attuatore sa che compilate quelle attestazioni abbiamo predisposto per esempio farvi qualche esempio concreto una checklist di autocontrollo che consente di soddisfare praticamente tutti i punti di controllo previsti una relazione sullo stato di avanzamento del progetto abbiamo riportato le checklist dnsh che appunto sono state predisposte dal MEF e che servono per rispondere ai controlli sul dnsh ecco tutta una serie di format e strumenti per il soggetto attuatore per poter diciamo attestare il diciamo l'avvenuto controllo sulle spese che si presenta in rendicontazione quindi anche qui perdonatemi il mio diciamo essere abbastanza ripetitivo ma in dipendenza del ministero di riferimento andate sempre a vedere le attestazioni i format specifici che sono stati previsti generalmente costituiranno un allegato alle linee guida dei soggetti attuatori quindi è importante utilizzare quei format e quelle attestazioni caricarle questa seconda fase della presentazione del rendiconto di progetto dopodiché ci sarà fondamentalmente la possibilità di concludere le operazioni e di inviare il rendiconto quindi per grandi linee questo è un po' il processo di presentazione del rendiconto ci sono queste due fasi caricamento spese e presentazione delle attestazioni di avvenuto controllo ovviamente per poter presentare dei rendiconti di progetto che siano corretti e che contengano una serie di spese per cui possono essere erogate le risorse va da sé che le spese devono essere assolutamente ammissibili ovviamente io sorvolo sulla fase di controllo dell'amministrazione centrale perché penso che sia un argomento che interessi meno probabilmente diciamo i partecipanti ovviamente quando poi viene inviato un rendiconto c'è tutta la fase di controllo del ministero che va a verificare però ovviamente anche l'ammissibilità delle spese anzi direi soprattutto oltre a tutti gli altri aspetti previsti quindi è importante capire e quindi mi collego a questa seconda parte quali sono i principi per l'ammissibilità delle spese a valere sul PNRR perché il PNRR ne ha parlato prima il dottor Centurelli ha una serie di peculiarità anche rispetto ai programmi per esempio gestione concorrente abbiamo visto la distinzione nella prima parte della sua lezione ha una serie di particolarità ma anche di elementi in comune perché la stessa commissione europea ha chiesto per una serie di aspetti di riprendere un po' le regole per esempio dei fondi strutturali vediamo però dal punto di vista delle spese ammissibili qual è la situazione intanto la prima fonte è sicuramente normativa è sicuramente il regolamento 241 2021 nel quale ovviamente non sono indicate come dire non sono indicati puntualmente dei principi di ammissibilità per tutte o le principali categorie di spese semplicemente è indicata di fatto l'inammissibilità delle spese solo per la parte di cosiddetta assistenza tecnica quindi adesso andiamo a fare un focus perché questo ci interessa per parlare anche di spese di personale quindi la distinzione tra assistenza tecnica e il cosiddetto supporto tecnico operativo invece ammissibile ma questo lo vediamo fra pochissimo in generale diciamo che non esiste un elenco delle spese ammissibili sul PNRR che valga sempre per ogni misura per ogni progetto ovviamente per ogni misura le spese ammissibili vanno rintracciate all'interno del relativo provvedimento attuativo pensiamo appunto ad un abiso pubblico generalmente c'è sempre un articolo sulle spese ammissibili e come dicevamo però ci sono solo alcune eccezioni alcuni casi particolari di spese per cui proprio l'inammissibilità o ammissibilità è indicata per tutte le misure pensiamo appunto all'assistenza tecnica inammissibile questa è una grande differenza per esempio con i fondi strutturali però adesso vedremo tra pochissimo proprio le definizioni per capire di cosa stiamo parlando per quanto non è espressamente previsto pensiamo ai classici quesiti che arrivano anche al nostro ministerio ne arrivano tantissimi una singola spesa non è indicato da nessuna parte magari dentro l'avviso pubblico nell'articolo sulle spese ammissibili non si fa riferimento a quella specifica spesa quindi ovviamente arriva il quesito è ammissibile o no in questi casi quindi in assenza di una previsione espressa all'interno del provvedimento attuativo della misura si rimanda alla disciplina vigente per i fondi strutturali mi riferisco al DPR 22 2018 che reca criteri di ammissibilità delle spese per la programmazione 14-20 dei fondi strutturali in linea generale vale il criterio per cui sono ammissibili tutte quelle spese che si considerano essenziali per la realizzazione dell'intervento il suggerimento che diamo ai soggetti attuatori è quello di formulare dei quesiti specifici alle amministrazioni centrali noi ne rispondiamo a tanti abbiamo una casella quesiti dedicata ovviamente nel caso di assenza di indicazioni specifiche ci rifacciamo sempre al caso di specie all'essenzialità di quella spesa o meno per rispondere in senso positivo o negativo rispetto al quesito però questi sono un po' diciamo questo è un po' l'orientamento generale quindi questo che vi ho detto nella slide precedente in realtà è ribadito anche in una fac del MEF che è presente sul sito di Italia Domani di cui vedete appunto l'estratto diciamo la schermata si ribadisce quello che dicevo prima ovvero il fatto che in assenza di disposizioni puntuali in tema di ammissibilità dei costi ci si rifà al DPR 22 2018 ovviamente va sempre visto l'avviso pubblico perché ovviamente forma l'ex specialis e quindi potrebbe anche contenere specifiche disposizioni anche più restrittive rispetto al criterio generale e inoltre va da sé che a seconda del tipo della tipologia di misura e delle finalità di quella misura le spese essenziali possono essere molto diverse da investimento ad investimento faccio un esempio a caso tra i vari investimenti noi abbiamo quello di bonifica dei siti orfani ovvio che in quel caso una serie di spese per non so indagini sul terreno analisi per verificare la qualità appunto del terreno indagini geologiche e quant'altro possono essere considerate spese essenziali per quella misura ma magari non lo sarebbero per un'altra quindi ovvio che va sempre visto l'avviso pubblico che di fatto già interpreta questo criterio nell'andare a declinare le spese ammissibili per quanto riguarda l'IVA ho fatto un discorso a parte perché anche su questo tema arrivano diversi quesiti in linea generale anche qui di fatto si rimanda al DPR 22 2018 in particolare all'articolo 15 ovvero si riprende il principio in base al quale l'IVA è una spesa ammissibile sul PNRR nella misura in cui sia non recuperabile da parte del beneficiario soggetto attuatore nel mondo del PNRR questo perché ovviamente chi può recuperare l'IVA se l'avesse anche ammessa diciamo a finanziamento sul PNRR avrebbe di fatto un doppio vantaggio quindi per intenderci nel caso di soggetti pubblici il classico esempio del comune l'IVA non è recuperabile quindi di conseguenza è ammissibile quindi l'importo dell'IVA può essere proposto per il finanziamento mentre invece per le imprese per intenderci nel caso in cui siano soggetti attuatori quindi per capirci l'avviso pubblico si rivolge direttamente alle imprese ci sono diversi casi ne abbiamo anche noi diversi investimenti con questa configurazione in questo caso potendo le imprese recuperare l'IVA non possono presentare il relativo importo come dire per la quantificazione del contributo da ammettere a finanziamento quindi questa sicuramente è una specifica importante si riprende quindi quanto previsto dal diciamo dal DPR andando avanti facciamo un focus purtroppo il tempo corre veloce ci sono alcuni argomenti sicuramente interessanti tra cui sempre con riferimento alla parte di ammissibilità delle spese le spese del personale perché su questo aspetto va fatto un discorso specifico intanto partiamo dal decreto legge 80 2021 che è l'articolo 1 ha individuato delle condizioni per riconoscere le spese del personale sui progetti del PNRR dobbiamo fare distinguere due categorie in alcuni casi ci sono delle assunzioni che sono proprio previste dal PNRR pensiamo ai cosiddetti mille esperti che hanno formato un target specifico o anche una serie di assunzioni previste proprio diciamo nella come dire nei provvedimenti normativi per il PNRR ovviamente in quel caso si applica la disciplina ordinaria nell'ultimo caso mentre invece anche se non espressamente previste possono essere incluse una serie di spese per il personale che serve per realizzare i singoli progetti di competenza appunto dei soggetti attuatori in questo caso quindi il caso 2 che vedete nella slide è facoltà del soggetto attuatore con determinati limiti che adesso vedremo andare a includere queste spese nell'ambito del quadro economico del progetto per questa casistica quindi il caso 2 è stata emanata una specifica circolare da parte del MEF la circolare MEF RGS numero 4 del 2022 che detta appunto le regole come dire le regole del gioco con riferimento a queste spese intanto è importante capire l'ambito come dire soggettivo ed oggettivo dell'applicazione di questa circolare mi spiego meglio intanto quali spese sono ammissibili vado alla slide successiva credo sia abbastanza chiaro da questa slide e il concetto che dicevamo poc'anzi le spese che non sono ammissibili sono le cosiddette spese di assistenza tecnica quindi assolutamente non è possibile inserire queste spese all'interno degli investimenti del piano quindi nella rendicontazione per intenderci mentre sono da considerare ammissibili le spese del cosiddetto supporto tecnico operativo andiamo a vedere meglio le definizioni per capire esattamente qual è il perimetro e di cosa stiamo parlando assistenza tecnica è costituita dalle azioni di supporto quindi pensiamo sempre al personale che svolge attività di assistenza tecnica ecco immaginiamo un'unità di personale che svolge attività di inserimento dati in regis oppure controllo audit valutazione tutte queste attività e cosa hanno in comune hanno in comune il fatto di di fatto garantire gli adempimenti regolamentari se vogliamo e quindi non sono considerate come direttamente essenziale all'attuazione del singolo progetto quindi per questo motivo sono escluse dalla ammissibilità a valere sul PNRR quindi il punto è non può essere assunto spesato sul PNRR personale che svolge queste attività ovviamente non è che non può essere assunto non può essere spesato sul piano quindi evidentemente diciamo serviranno altre risorse per assumere personale che svolga queste funzioni quindi assistenza tecnica assolutamente tutto ciò che può essere accomunato questa attività non è appunto spesabile sul piano come attività diciamo del personale quello che invece può essere incluso e in questo senso è stata coniata questa definizione di supporto tecnico operativo per distinguerlo un po' dall'assistenza tecnica è costituito da tutte quelle spese che invece servono per realizzare concretamente i singoli progetti faccio sempre un esempio abbastanza banale semplice che però rende l'idea del caso in cui bisogna realizzare un'opera ovviamente se io devo realizzare un'opera ho bisogno magari di un ingegnere questo ingegnere chiaramente è proprio un esempio di attività spesabile perché la sua expertise la sua competenza è assolutamente considerabile essenziale per la realizzazione del singolo progetto di quella specifica opera quindi in questo caso la spesa è considerata di supporto tecnico operativo quindi in generale sono ammissibili a finanziamento sul PNRR i costi che sono riferiti ad attività svolte dal personale che servono per realizzare concretamente i singoli progetti quindi in questo senso vediamo però con che modalità e quali sono le caratteristiche per poter effettuare queste assunzioni prima ancora andiamo a vedere l'ambito soggettivo cioè a chi si applica questa circolare perché questa è una domanda sicuramente che se già non conosco la risposta molti di voi si saranno fatti intanto si applica alle cosiddette amministrazioni titolari di interventi devo dire non è semplicissimo come dire barcamenarsi in tutte le definizioni perché mi rendo conto ce ne sono tante ma il concetto è si applica fondamentalmente a tutti coloro intanto alle amministrazioni quindi questo vuol dire che stiamo parlando di soggetti pubblici quindi non di soggetti privati e non di soggetti realizzatori per intenderci ma stiamo parlando di amministrazioni possono essere amministrazioni o centrali o territoriali che in qualità di soggetti attuatori hanno la responsabilità di singoli progetti o azioni quindi per intenderci se proprio vogliamo dirla un po' più nel dettaglio questa circolare si estende a tutti quei soggetti o quei soggetti pubblici evidentemente che rientrano all'interno del conto consolidato dello Stato per capirci quindi si applica questa circolare la definizione invece di amministrazione centrale titolare di intervento è diversa perché è proprio la definizione dell'articolo 8,1 del DL 77 quindi sono le amministrazioni che sono responsabili proprio delle misure del piano quindi che fanno diciamo gli avvisi pubblici e quant'altro quindi fate riferimento alla definizione in blu allora andiamo un po' più nel dettaglio cerchiamo di capire quali sono le attività specifiche che possono essere spesate sul piano e poi andiamo a vedere con quali limiti intanto sempre interpretando il criterio di come dire essenzialità rispetto al singolo progetto come è chiarito anche dal del MEF che adesso andremo a vedere le attività che sicuramente queste sono delle come dire prime aree di attività che come dire non non sono comunque esaustive quindi però diciamo sulle quali si può essere sicuri ecco nella ammissibilità sono queste queste cinque attività divise in questi punti elenco che vedete quindi incarichi di progettazione servizi di direzione lavori architettura ingegneria collaudo tecnico amministrativo incarichi per indagini sismiche geologiche per operazioni di bonifica commissioni giudicatrici e altre attività strettamente finalizzate a realizzare i singoli progetti ripeto sempre l'avvertenza di prima questo in generale andate sempre a vedere però l'avviso pubblico se perché potrebbe essere più restrittivo o indicare tipologie specifiche di attività ora la cosa diciamo aggiuntiva quindi un altro elemento da aggiungere a quanto detto è che possono essere previste anche delle spese di consulenza adesso vedremo quali sono le modalità diciamo di assunzione nel senso che possono essere assunti sia sia personale a tempo determinato sia esperti esterni e questo adesso lo vedremo però in generale possono essere spesate anche attività di consulenza attenzione però anche qua vale il criterio di prima cioè anche queste spese di consulenza eventualmente spesabili devono essere strettamente funzionali alla realizzazione delle attività del progetto che cosa vuol dire vuol dire che la consulenza diciamo così ordinaria o non so pensiamo ad un servizio di assistenza o segreteria amministrativa o assistenza fiscale chiaramente questa tipologia di consulenza non essendo direttamente connessa ad un progetto PNRR non può essere inclusa nelle attività diciamo spesabili del personale quindi anche qui deve essere un servizio di consulenza ma consulenza specialistica quindi diciamo così tecnico specialistica cioè il contributo deve essere anche in questo caso essenziale rispetto allo specifico progetto messo a finanziamento quindi vale sempre questo criterio quindi poi per ulteriori dettagli c'è proprio una fac del del MEF sulla diciamo sezione vedete anche il link in questa slide del sito di Italia Domani c'è una selezione dedicata alle fac in particolare sull'ammissibilità delle spese perché per esempio vedrete che sono incluse anche le cosiddette spese per il sono includibili le cosiddette spese per il supporto al RUP quindi questo penso possa essere sicuramente di interesse e poi ci sono una serie di voci che adesso vedremo i plafon sono fuori da questi plafon sono ammissibili ma non rientrano nei limiti per queste spese di personale per esempio le spese per incentivi funzioni tecniche per intenderci l'ex articolo 113 del del 50 2016 adesso aggiornato dal nuovo codice sono ammissibili ma sono fuori da questi plafon quali sono questi plafon le spese che ho detto che ho raccontato prima possono essere incluse dentro i quadri economici del progetto quindi spese per assunzione di personale interno o esterno quindi che cosa vuol dire vuol dire facciamo un esempio io ho un progetto ammesso a finanziamento supponiamo che il mio progetto valga vedete qui una serie di fasce in base alla fascia del progetto facciamo un esempio io sono nella fascia A ho un progetto diciamo piccolo tra virgolette che vale un milione di euro quindi sono nella fascia A fino a 5 milioni qual è il limite massimo di spese di personale che io posso inserire con le caratteristiche di prima quindi personale che svolga attività di supporto tecnico operativo parliamo di un 10% quindi l'esempio un milione di euro 10% 100.000 euro in realtà ho un altro massimale uno sbarramento chiamiamolo così in valore assoluto che sta a 250.000 di fatto vale il più basso dei due tra il limite in percentuale e il limite in valore assoluto quindi nell'esempio che ho fatto il limite è 100.000 euro perché io ho un progetto da un milione di euro applico la percentuale del 10% 100.000 euro non supero il massimale da 250 vale 100.000 euro se invece io arrivassi al limite massimo quindi facciamo l'esempio di un progetto invece di 5 milioni di euro in questo caso io applicando il 10% arriverei a 500.000 euro tuttavia avendo il secondo sbarramento quello in valore assoluto mi devo attestare ad un massimo di 250.000 euro come limite per le spese che posso inserire dentro il quadro economico di personale che svolge attività di supporto tecnico operativo la cosa importante da dire è che questo limite è da considerarsi come sommatoria di spese per personale interno ed esterno cosa vuol dire interno ed esterno vuol dire che io posso assumere personale a tempo determinato considerate sempre la come dire razio no cioè la la logica che sta alla base questo personale poiché il criterio è quello di come dire essenzialità delle relative attività rispetto al progetto ovvio che come dire anche l'orizzonte temporale di assunzione deve essere collegato alla durata del progetto stesso quindi se il progetto dura non so fino al 2026 allora diciamo il contratto diciamo che almeno per la parte finanziata da risorse del PNRR non potrà superare tale data in ogni caso quindi si tratta di o assunzioni di personale interno quindi per intenderci a tempo determinato oppure esperti esterni quindi classici contratti di consulenza direttamente effettuati da parte dell'amministrazione anche qui quindi consulenza appunto di vario genere natura ma la cosa importante da dire è che la sommatoria delle spese di personale interno esterno non può superare quei limiti che abbiamo visto di cui ho fatto l'esempio poc'anzi c'è la possibilità data dalla circolare 422 di superare questi limiti però è un processo abbastanza lungo perché deve essere chiesto da parte dell'amministrazione centrale di riferimento al MEF la possibilità di superare questo limite per esperienza vi dico che è un processo abbastanza lungo quindi lo sconsiglio più che altro perché si rischia di perdere tempo e potrebbe non esserci anche un esito positivo a meno che non sia strettamente come dire necessario considerato essenziale mi viene in mente per esempio il caso dei progetti di ricerca che come dire intrinsecamente hanno delle componenti di costi del personale più elevati rispetto alla norma proprio per la caratteristica dei progetti chiaramente come si fa praticamente nel torno un attimo indietro a fare questa a inserire questi importi realisticamente ci sarà un avviso pubblico ci sarà un progetto messo a finanziamento e ci sarà quindi un quadro economico del progetto queste spese possono essere inserite dentro il quadro economico quindi che cosa vuol dire vuol dire che se c'è già un quadro economico che è stato approvato dall'amministrazione centrale e si vuole inserire queste spese ovviamente dovrà essere sottoposto una richiesta di modifica del quadro economico ovviamente ad invarianza del contributo cioè non è che questi sono soldi in più rispetto al contributo già eventualmente concesso al soggetto attuatore dovrà proporsi una modifica del quadro economico eventualmente andando a diminuire qualche altra voce però questa è una possibilità di inclusione di queste spese dentro il quadro economico adesso io non so se ho un altro paio di minuti chiedo magari alla moderatrice perché sono le undici e un quarto sicuramente sì fino alle undici e mezza e undici e quaranta tranquillamente perfetto le domande sono quattro quindi ce la facciamo ok allora io farei un piccolo focus sulla parte di cumulo e doppio finanziamento ci impiegherò circa 5-10 minuti e poi magari posso rispondere alle domande che sono presenti in chat così andiamo a concludere grazie a lei dicevo sempre connessa alla parte di finalizzato alla parte poi di rendicontazione abbiamo parlato adesso di spese ammissibili l'altro tema o gli altri temi che sono assolutamente come dire importanti da tenere a mente sono sono i temi del cumulo e doppio finanziamento perché chiaramente comprendere bene il funzionamento di questi due fatti specie può dare la possibilità di non come dire commettere errori tra virgolette nella fase poi di rendicontazione partiamo da una definizione abbastanza chiara dei due concetti il doppio finanziamento è per definizione come dice la parola stessa facilmente comprensibile come una fatti specie assolutamente non consentita questo è scritto chiaramente nel regolamento 241 2021 ma in realtà si va a riprendere quello che è un chiaro orientamento della commissione europea dai diversi cicli di programmazione anche dei fondi strutturali perché perché chiaramente se io vado a fare un doppio finanziamento che cosa faccio fondamentalmente se vado a spesare lo stesso costo di un intervento due volte chiedendone il rimborso due volte su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura quindi quello che vado a fare è fondamentalmente creare un danno al bilancio comunitario nel caso del PNRR questa fattispecie di doppio finanziamento potrebbe essere in realtà a due livelli potrebbe essere a livello di singola spesa che io vado a presentare due volte oppure a livello di addirittura intero progetto in entrambi i casi ovvio che è una fattispecie assolutamente non consentita come ribadito peraltro dall'articolo 9 del regolamento 241 2021 il cumulo invece è una fattispecie diversa nel senso che il cumulo è definibile come una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico quindi qual è il concetto di cumulo io ho un progetto che vale 100 semplicemente dico ok non so 40 li vado a coprire con una fonte di finanziamento gli altri 60 li vado a coprire con un'altra in linea generale questa possibilità di cumulo è assolutamente consentita a patto che ovviamente io non vada a superare il 100% del finanziamento perché è ovvio matematicamente che se io supero il 100% di fatto una quota la sto finanziando due volte quindi sicuramente in linea generale mentre il doppio finanziamento è una fattispecie vietata queste definizioni questi concetti sono stati ripresi come vedete dal titolo da una circolare MEF RGS devo dire che me la ricordo perché ho partecipato anche io alla scrittura quando stavo al MEF la circolare numero 33 del 2021 che in realtà è semplicemente una circolare di chiarimento di fatto non dice nulla di nuovo se non ribadire questi concetti perché all'epoca all'epoca sono ormai passati quasi più di tre anni circa tre anni erano usciti alcuni articoli di giornale che mettevano un po' in dubbio anche la parte il concetto di cumulo quindi questa circolare è servita a dare proprio dei chiarimenti per distinguere puntualmente il doppio finanziamento dal cumulo quindi in linea generale il cumulo è assolutamente consentito ovviamente con alcune limitazioni quindi abbiamo detto intanto non deve essere superato il 100% dell'intervento poi l'altra cosa importante da dire è che va sempre visto l'avviso pubblico perché vado alla seconda slide potrebbero esserci delle disposizioni più restrittive dentro gli avvisi pubblici rispetto al criterio generale pensiamo anche per esempio ai limiti dovuti alla normativa aiuti di stato perché ovviamente possono esserci dei limiti come dire inferiori previsti dall'applicazione della normativa sugli aiuti di stato però ecco la circolare voleva chiarire questi due concetti sulla parte di doppio finanziamento e anche spendere due parole sulla chiamiamola nuova fattispegie nel senso che è un orientamento un po' più recente anche dell'Unione Europea che lo sta diciamo così comunicando le varie amministrazioni centrali di riferimento il cosiddetto rischio del doppio finanziamento di performance perché lo dico perché siamo sempre abituati a pensare al doppio finanziamento collegato alla spesa quindi io ho la stessa spesa la presento due volte e faccio il doppio finanziamento in realtà il doppio finanziamento potrebbe essere connesso anche alla performance quindi questo incide sulla parte del cumulo in che senso in alcuni casi potrebbe essere fatto di vieto di cumulare quindi diciamo sullo stesso progetto due fonti PNRR per intenderci quindi uno stesso progetto per uno stesso progetto potrebbe essere fatto di vieto di avere un cumulo quindi un cofinanziamento tra per esempio due misure PNRR appunto due investimenti diversi perché qual è diciamo l'obiezione della commissione europea il motivo per cui questa fattispecie potrebbe essere vietata l'obiezione è che quel progetto andando a ricevere un cofinanziamento da due misure diverse di fatto va a raggiungere contemporaneamente due target diversi collegati a due misure diverse per cui in realtà la commissione europea quando ha approvato il piano ha come dire ha dato due investimenti diversi quindi con un costing differente ha dato quindi come dire una doppia allocazione finanziaria quindi io con quel progetto di fatto andrei a contribuire a entrambi i target che magari saranno anche target diversi ci sono dei casi del genere per questo motivo in alcuni abisi pubblici potreste trovare anche per esempio il divieto di cumulo tra fonti di finanziamento diciamo tra misure PNRR diverse o in generale tra fonti europee diverse ovviamente mentre con risorse nazionali risorse proprie generalmente sempre consentito fermo restando ovviamente i limiti dovuti alla normativa sugli aiuti di Stato quindi io su questa parte andrei a finire se siete d'accordo se d'accordo anche la moderatrice andrei nella sì sì prego a togliere la condivisione così legge si leggono meglio le domande perfetto calcoli che sono state poste dall'inizio insomma del percorso quindi riesci a vederle? sì allora li sto vedendo ok sto le sto diciamo rapidamente leggendo solo se può ecco far riferimento al nome di chi l'ha posta magari una volta che poi procede con la risposta ok allora vado nell'ordine la prima diciamo c'è spettatore anonimo quindi non si sa il nome però è una domanda sulla titolarità effettiva quindi la domanda è non capiamo se devono sottoscrivere la dichiarazione anche il sindaco del comune beneficiario del fondo ed il progettista fermo restando che l'impresa lo dovrà certamente fare parliamo di reggis naturalmente la domanda è assolutamente più che legittima perché è una questione che stiamo stiamo affrontando anche noi come amministrazione centrale nel senso che di fatto abbiamo lo stesso dubbio lo stesso problema vostro sugli interventi a titolarità perché in teoria addirittura nel nostro caso diciamo il dubbio che avete voi sul sindaco nel nostro caso dovrebbe essere il ministro allora il concetto è l'osservazione più che corretta nel senso che come insomma avrete visto questa tutta questa questa parte questa diciamo concetto di titolarità effettiva e poi l'articolo 22 del parte tutto dell'articolo 22 del regolamento 241 2021 di fatto si rifà alla normativa antiriciclaggio che chiaramente è nata ovviamente nel caso di soggetti privati quindi personalmente diciamo interpreto la come dire l'estensione anche ai soggetti pubblici come un po' una forzatura di questa interpretazione tuttavia dalle interlocuzioni che stiamo avendo con il il MEF che come sapete insomma ha emanato anche le linee guida anche la 30 2022 di cui parlavamo prima almeno anche dalle come dire dai controlli che vengono fatti anche su di noi sembra che questa dichiarazione sia appunto da sottoscrivere anche per il chiamiamolo rappresentante legale del soggetto autotore quindi nel caso di specie sarebbe il sindaco noi stiamo il mio suggerimento è questo interloquite con l'amministrazione centrale di riferimento che diciamo nell'ambito del quale avete la misura l'intervento messo a finanziamento per capire se se questo ruolo perché poi c'è anche un tema di informazioni come dire private che diciamo ovviamente nel caso del sindaco addirittura di un ministro come dire diciamo si potrebbe anche valutare come opportunità di non diciamo di non fornire e il mio suggerimento è questo di interloquire con l'amministrazione centrale per capire se è possibile far sottoscrivere fermo restando che dalle interpretazioni del MERS comunque un soggetto in rappresentanza dell'amministrazione dovrà sottoscriverla se può essere un altro soggetto al posto del sindaco non so magari un dirigente o direttore generale adesso non so a seconda delle diciamo dei soggetti previsti all'interno della diciamo del comune però ecco siamo anche noi in questa fase di interlocuzione purtroppo ci sono degli aggiornamenti continui anche sulle indicazioni che arrivano spero di avere risposto in maniera abbastanza soddisfacente una domanda della dottoressa Anna Cossu su chiede in quale sezione del sistema Regis si devono inserire i documenti dell'avanzamento finanziario assolutamente sì la risposta è nel modulo di configurazione e gestione delle operazioni che sarebbe il modulo di appunto di monitoraggio nella parte di anagrafica del progetto c'è la possibilità di inserire le spese quindi di fatto si vanno a inserire nella parte di appunto monitoraggio finanziario quindi in questa sezione si vanno a inserire le spese abbiamo detto fondamentalmente funziona così la sezione c'è una parte in cui bisogna inserire dei dati quindi si dovrà inserire l'impegno si dovrà inserire la fattura per nel caso di fattura tra l'altro c'è la possibilità di richiamarla dalla piattaforma PCC dei crediti commerciali quindi in molti casi è già presente la fattura al sistema e si potrà semplicemente richiamare quindi impegno diciamo documento giustificativo di spesa documento giustificativo di pagamento questo è importante perché ovviamente bisogna dimostrare che quella fattura in quel caso è stata appunto pagata e dopodiché quindi questo nel modulo ripeto di configurazione e gestione delle operazioni è una grafica del progetto informazione di avanzamento finanziario poi si potrà andare nell'altro modulo a fare la rendicontazione ma la si potrà fare soltanto dopo che saranno state inserite le spese in questa sezione spero di avere risposta vedo che compaiono altre domande allora sempre la dottoressa Pini credo che sia il follow up rispetto alla mia prima risposta sulla titolarità effettiva il progettista mi pare di capire che non vada inserito interpretiamo mai allora per quella che è la mia interpretazione una volta che vado ad inserire il rappresentante legale non diciamo mi sembra superfluo andare a inserire anche il progettista quindi però anche qui andate a interloquire con l'amministrazione io penso che il come dire compromesso che potrà essere raggiunto senza problemi individuare un rappresentante dell'amministrazione soggetto a totore non necessariamente il sindaco e poi basta fondamentalmente non andrei anche a diciamo a ripetere sul progettista però il problema è che io posso darvi quella che secondo me è l'interpretazione corretta leggendo la norma però sono sempre indicazioni che stanno arrivando dal MEF che diciamo alla sua interpretazione avendo emanato le circolari in alcuni casi abbiamo visto che è abbastanza diciamo così come dire stringente nella richiesta per quanto riguarda io magari vado in ordine di arrivo così vado diciamo in ordine cronologico dalle prime arrivate fino alle ultime vedo una domanda poi ovviamente se dovessi aver saltato qualche domanda fatemelo sapere però vedo la domanda del dottor Salvatore Cancemi desidero sapere perché al di là del monitoraggio Regis il ministero tramite l'assessorato regionale subisse il soggetto a totore esterno e di conseguenza noi RUP di continuo di continui e lunghi monitoraggi esterni alla piattaforma su file Excel allora intanto non so qual è il ministero di riferimento non so se si riferisce al ministero dell'ambiente e sicurezza energetica però non penso magari chiederei una conferma al dottor Cancemi perché ovviamente ogni ministero si sta orientando un po' con delle sue indicazioni ferme restando ovviamente le circolari MEF nello specifico la circolare 27 e poi quindi magari su questo al ministero della salute guardi diciamo non rispondo per il ministero della salute perché ovviamente appartengo ad un'altra amministrazione centrale titolare di misura probabilmente il ministero della salute avrà adottato un'altra modalità per raccogliere i dati per cui evidentemente si serve di questi file per andarli poi a caricare sul Regis però diciamo ovviamente non non mi esprimo perché non conosco le modalità di raccolta dati del del ministero della salute la questione è questa c'è una circolare MEF nello specifico la circolare 27 2022 che dà delle indicazioni alle amministrazioni centrali sui dati di monitoraggio su come inserirli al sistema però ferme restando queste indicazioni generali ogni ministero si sta un po' organizzando con delle sue modalità ci sono anche alcuni ministeri che hanno delle piattaforme su cui si inseriscono i dati che poi quindi diverse da Regis ma diciamo attraverso le quali poi i dati vengono riportati sul Regis quanto riguarda il ministero nel quale lavoro l'unità di missione PNRR noi facciamo utilizzare direttamente Regis ai soggetti attuatori questo vuol dire che il soggetto attuatore può entrare direttamente al sistema e andare a inserire le informazioni di pertinenza connesse al proprio progetto poi sempre il dottor Cancemi chiede qual è il processo da attuare per ottenere l'autorizzazione all'uso del ribarso d'asta per la copertura dei costi per la compensazione dei prezzi anche qua il suggerimento è di interloquire con l'amministrazione centrale titolare dell'intervento perché ovviamente ci sarà diciamo ci sarà un un avviso pubblico e ci sarà un un decreto di concessione immagino un decreto comunque di ammissione a finanziamento quindi in questo caso ovviamente il discorso qual è? che essendoci stato un ribasso d'asta come sapete come funziona un po' c'è un normalmente quando il progetto viene messo a finanziamento c'è un contributo che viene concesso quel contributo è da considerarsi come un tetto massimo tetto massimo non superabile che deve essere però poi comprovato da spese effettivamente sostenute quindi ovvio che nel caso in cui c'è stato un ribasso d'asta come dire quella spesa poi non verrà sostenuta dal diciamo dal soggetto realizzatore perché ovviamente c'è stato appunto un ribasso d'asta quindi fondamentalmente quelle attività poste in essere dal vincitore della gara saranno diciamo realizzate su un importo più basso quindi quella differenza deve essere per quella differenza deve essere fatta una richiesta all'amministrazione centrale per individuare le modalità per poterla tra virgolette sbloccare utilizzare secondo la diciamo la disposizione di legge c'è una domanda sulla 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 dottoressa Magrini sulla parte del di cumulo invece si chiede se l'intervento oggetto di cumulo ha un unico cup e se si devono dividere le lavorazioni e si lavora pro quota intanto se l'intervento oggetto di cumulo evidentemente è su fonti di finanziamento diverse quindi generalmente ci sono due cup diversi per le parti appunto le come dire le due quote separate generalmente si tratta di casi in cui c'è una un cup per la parte ammessa a finanziamento sul PNRR e poi ce n'è un altro sull'altra ponte finanziaria però da questo punto di vista ci sono diverse modalità su cui si può operare per esempio per quanto riguarda diciamo noi come Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica noi abbiamo nel caso di dubbio un team dedicato che interloquisce con la struttura del Tipe quindi del Dipartimento di Programmazione Economica per capire qual è dal punto di vista del CUP la diciamo la casistica da utilizzare perché possono esserci diverse modalità in ogni caso la cosa importante è che è questa nel caso in cui ci sia immaginiamo per esempio il caso di un progetto PNRR per cui diciamo appunto sul PNRR si prevede una parte del finanziamento potrebbe essere anche un unico CUP però magari un'altra quota è su altre fonti di finanziamento come funziona dal punto di vista anche della rendicontazione funziona così ovviamente sul sistema Regis per intenderci si dovrà effettuare la rendicontazione solo per la parte che è ammessa a finanziamento sul PNRR quindi se io sul PNRR il progetto vale 100 ma sul PNRR io ho solamente 50 ammesse a finanziamento chiaramente io la rendicontazione la dovrò fare solo per 50 quello che devo fare però in aggiunta è andare a dire sempre sul Regis ma attenzione solo a fini di monitoraggio e non a fini di rendicontazione quali sono le altre fonti che intervengono su quel progetto quindi per esempio non so fonti comunali fonti regionali nazionali di vario genere e natura dovrò semplicemente come dire indicarle a fini di monitoraggio fermo restando che la rendicontazione deve essere effettuata solo per la parte PNRR vengo alla domanda del dottor Barresi chi deve fare la rendicontazione e che ruolo deve avere allora deve avere il ruolo di tra virgolette soggetto attuatore sul sistema Regis quindi che cosa vuol dire allora intanto il concetto è questo per poter chiedere le utenze sul sistema Regis bisogna essere ovviamente un soggetto attuatore a quel punto è possibile indicare nel modulo di richiesta di censimento normalmente un format messo a disposizione dall'amministrazione centrale le diverse utenze che si vuole censire al sistema quindi ci sono due tipologie di attività per semplificare che si fanno sul Regis due diciamo così tipologie di ruoli cioè il soggetto cosiddetto io devo fare due cose sul Regis uno andare a inserire le informazioni in anagrafica come abbiamo visto prima nel caso delle spese devo andare a inserire in anagrafica progetto le spese e poi devo andare a fare la rendicontazione quindi inserire i documenti e fare il click finale per rendicontare perché faccio questa distinzione perché io posso censire le utenze con due ruoli un ruolo di subattuatore che ha delle funzioni limitate cioè può inserire solo le informazioni quindi i dati per esempio relativi alle spese ma non può fare la rendicontazione mentre chi è censito con il ruolo di soggetto attuatore può fare entrambe le cose può sia inserire le spese sia andare a fare la rendicontazione questa specifica la faccio perché per esempio noi abbiamo alcuni investimenti che hanno la configurazione tra soggetto attuatore esterno in alcuni casi il comune e soggetto attuatore principale che è la regione allora in questi casi poi dipende sempre com'è diciamo il circuito finanziario e come sono ripartiti gli obblighi ma in questi casi la rendicontazione la può fare solo la regione quindi se poi la domanda è qual è come dire il soggetto diciamo così dal punto di vista di ruolo che è abilitato a inviare la rendicontazione la risposta è un rappresentante sicuramente diciamo così responsabile del progetto per intenderci quindi potrebbe essere il soggetto che ha firmato la convenzione o il soggetto che è destinatario del provvedimento di concessione nel caso di decreto di concessione oppure potrebbe essere anche questo andate sempre a vedere le linee guida del singolo ministero però in linea generale potrebbe essere anche un soggetto delegato da quest'ultimo quello che chiediamo noi come MASE come ministero dell'ambiente e sicurezza energetica ovviamente nel caso di delega deve essere comunque inserita a sistema anche il documento di delega e poi il documento ovviamente di identità del soggetto delegato ovviamente come dire in corso di validità quindi spero di avere risposto per la sottoscrizione delle attestazioni anche se il firmatario dell'atto d'obbligo del sindaco si può delegare la firma al dirigente competente penso di avere con quale atto è libera di giunta penso di avere risposto anche alla domanda prima nel senso che per me la risposta è sì sicuramente ecco abbiamo il caso classico in cui ovviamente la convenzione con il ministero deve la firma generalmente il sindaco ma appunto poi all'invio della documentazione diciamo del click finale per intenderci del rendiconto di progetto può essere anche delegato un soggetto dal sindaco però appunto deve esserci l'evidenza della delega deve esserci l'evidenza del documento di riconoscimento diciamo in corso di validità del soggetto delegato che ovviamente deve essere comunque un rappresentante dell'amministrazione con poteri di diciamo di firma pensiamo per esempio un dirigente un direttore generale in cui sia presente però sicuramente per dire adesso faccio anche l'esempio delle richieste di anticipazione perché queste le verifica direttamente il mio ufficio se ovviamente la richiesta arriva da un non so un dirigente per dire dell'ufficio che si occupa della liquidazione o del bilancio va assolutamente bene un rappresentante dell'amministrazione che ha il potere di effettuare quella richiesta vedo poi un'altra domanda anche anche a supporto al RUP va fatta compilare la dichiarazione sulla titolarità effettiva allora il titolare effettivo allora ripartiamo un attimo dal concetto il titolare effettivo è considerato secondo la normativa antiriciclaggio perché il problema è questo è una normativa che si applica fondamentalmente alle imprese quindi si tratta quello diciamo il gioco tra virgolette che stiamo facendo chiamiamolo così è quello di cercare di capire quale potrebbe essere l'estensione dell'applicazione di questa normativa anche ai soggetti pubblici secondo la normativa antiriciclaggio ovviamente il titolare effettivo è costituito rappresentato da quei soggetti che detengono almeno il 25% delle quote di capitale quindi quei soggetti che di fatto esercitano un controllo su quella su quella impresa tralasciamo poi diversi criteri però diciamo questa è la questa è la previsione quindi per quanto riguarda l'amministrazione pubblica diciamo io mi mi rifarei a quanto detto prima la limiterei a quello che viene individuato come rappresentante legale che come dire in prima istanza viene da pensare il sindaco nel caso di comune però ecco suggerisco come dicevo prima l'interlocuzione con l'amministrazione per capire come si sta orientando il MEF in questo senso e quali indicazioni ha recepito l'amministrazione quindi se gli dovessi dare una risposta per me sarebbe limitata ad un soggetto se non il sindaco un soggetto che può essere delegato al suo posto però sempre diciamo un soggetto come dire si tratta di trovare l'equivalente rispetto al titolare effettivo dell'impresa quindi un soggetto che di fatto ha chiamiamo non possiamo chiamarlo controllo però sicuramente ha poteri di rappresentanza legale dottor lo iero possiamo rispondere a un'altra domanda dopodiché sì perché stanno arrivando ovviamente sì 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 mi rendo conto però purtroppo abbiamo ormai esaurito il tempo a nostra disposizione solo un'altra domanda e poi chiudiamo sì 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 assolutamente allora scelgo vedo la domanda sul DL articolo 2 del DL 19 2023 la dottoressa Daniela R chiede se la procedura prevista vale solo per ora o per tutta la durata dell'opera finanziata con il PNRR allora leggendo l'articolo appunto ci riferiamo ovviamente all'articolo 2 del DL 19 l'articolo fa riferimento ad una diciamo ai cronoprogrammi con una cristallizzazione al 31 dicembre 2023 quindi per ora mi viene da dire l'applicazione è limitata al 2023 quindi questo vuol dire che cosa che dovranno essere aggiornati i campi previsti dall'articolo 2 nel caso specifico sicuramente almeno i cronoprogrammi cronoprogramma diciamo finanziario e procedurale con riferimento al al 31 dicembre 2023 e per questo c'è il termine che attenzione è di 30 giorni al momento almeno per come è scritto dall'entrata in vigore del decreto legge quindi questo vorrebbe dire che il termine scadrebbe i 30 giorni scadrebbero al 2 aprile 2024 suggerimento sempre ripetitivo e banale andate a vedere le indicazioni delle amministrazioni centrali perché noi come Mase stiamo uscendo con una circolare specifica dando indicazione a tutti i soggetti attuatori anche sulle modalità come dire pratiche su quali sono i campi che poi devono essere compilati a sistema sulla base delle disposizioni rispetto alla domanda specifica le direi al momento diciamo non è indicata per tutta la durata ma si fa riferimento solo diciamo all'orizzonte del 2023 con questa ecco questa era l'ultima domanda direi grazie grazie mille veramente dottor Loiero per la sua disponibilità neanche nel rispondere in modo così puntuale a tutte le domande dei nostri partecipanti grazie mille che ringraziamo anche dottor Centurelli una breve nota a margine scusate un attimo non so se si sentono dei rumori nella stanza purtroppo non posso farci nulla una breve nota a margine ci hanno scritto che alcuni partecipanti che non riescono a visualizzare le registrazioni ho fatto delle prove in realtà le registrazioni si visualizzano tutte soltanto che ci vuole un po' per caricarle visto l'intenso traffico dati magari dei partecipanti in piattaforma delle registrazioni che pesano comunque quindi cliccate sulla registrazione ma poi aspettate un attimo al limite chiudetela e poi riapritela apritela e si apre si visualizzano tutte quindi grazie ancora ai nostri relatori grazie a tutti numerosissimi per per essere stati con noi e niente a presto a domani grazie ancora dottor Loiero grazie grazie a voi grazie a tutti e buon proseguimento grazie a tutti